Benvenuti a tutti, benvenuti agli studenti, ai docenti, benvenuti ai colleghi che in un qualche modo si sono mostrati interessati a questo ciclo di conferenze. Oggi i nostri due oratori parleranno di realtà internazionali, partendo dal loro vissuto e dagli studi a cui si sono dedicati per tutta la loro carriera. Il primo degli oratori è il professor Paolo Magri che ci parlerà di come cambia il mondo. Naturalmente il mondo cambia sempre ma ci sono alcuni momenti in cui il suo cambiamento è più significativo, questo è uno di questi casi. Il professor Paolo Magri, naturalmente chi volesse approfondire la conoscenza può trovare tutte le informazioni possibili e immaginabili sul suo sito, basta andare su Google e citare Paolo Magri. Io mi limito a dirvi che lui è un docente di relazioni internazionali presso l'Università Bocconi di Milano e quindi rientra fra il novero dei colleghi universitari e in particolare direttore dell'ISPI che è l'Istituto per gli studi di politica internazionale che è uno degli organismi, un centro studi molto importante a cui si traggono sempre ottime informazioni. È un giornalista pubblicista, un commentatore radio televisivo, in modo particolare esperto di politica esteroamericana, medio orientale e iraniana. Cosa dire? C'è una lista infinita di pubblicazioni, alcune delle quali sono molto importanti, post vote in Iran, giving engagement exchange del 2017, l'età dell'incertezza, il mondo secondo Trump, il mondo di Obama, eccetera eccetera. Non me la sto facendo lunga perché noi già siamo in ritardo e il nostro oratore è impaziente di iniziare. Buon lavoro. Buongiorno, buongiorno ragazzi e ragazze. Sono, ma ero ancora di più un'ora fa felicissimo di essere qua oggi, felicissimo perché mi fa piacere la seconda volta che partecipo a questo ciclo è stato pensato e voluto da Piero Angela, che come per molti di voi è stato ed è il mio idolo televisivo. Non avrei mai sognato di trovarlo qua e quindi sono doppiamente felice e la ringrazio e credo che tutti noi la rivolgiamo. Ma ho detto ero particolarmente felice perché gli organizzatori mi hanno gentilmente mandato un'auto dall'albergo per portarmi qua e mentre ero in auto ho letto un po' le mie carte e a un certo punto l'autista mi ha detto siamo arrivati, io alzo la testa e mi trovo in mezzo a un mercato della verdura rionale e dico, e lì la felicità, finalmente vado dalle masse popolari, noi andiamo a parlare di queste cose sempre in ambienti ristretti, alla confindustria, finalmente incontro il popolo e lì ho scoperto, fine della mia felicità che è stata fugace, che a Roma ci sono due vie, una che si chiama via Columbia, che è in un mercatino rionale e una che si chiama via Columbia, corretto, che è questa, quindi sono stato portato dall'altra parte della città. Tutta questa lunga descrizione della mia felicità fugace, per scusarmi tremendamente per questo ritardo, che oltretutto mi priva del finale della mia chiacchierata, io finisco questa chiacchierata di cui vi parlerò di cose non sempre allegrissime, lo dico subito, di un mondo disordinato, di una maionese impazzita del mondo e chiudo, la mia età inizia a permettermelo, con qualche consiglio a voi che avete la vita davanti, fra i consigli dico, nonostante tutto il disordine del mondo, un valore importante è quello del rigore, dell'impegno e un'espressione di rigore e impegno è appunto la puntualità. Ecco, questo mio ritardo di 15 minuti mi priva del finale e mi scuso con voi se non vi farò alla fine la morale, ma chiuderò con qualche altra cosa che mi verrà in mente strada facendo. Ho parlato di maionese impazzita, se c'è qualcuno di voi che cucina sa che la maionese è una cosa molto semplice come ingredienti, due o tre ingredienti, ma se questi tre ingredienti uno li mette nella ciotola per farlo al momento sbagliato, nelle quantità sbagliate, non è che esce una maionese cattiva o buona, non esce proprio, esce una sorta di crema, agrumi che non funziona. Ecco, il nostro mondo in questo periodo è un pochino una maionese impazzita, gli ingredienti sono sempre gli stessi, degli stati, dei leader, dei rapporti fra stati, dei cittadini che a volte chiamiamo più fortemente popoli e questi ingredienti nella storia del mondo si sono mescolati, sempre, ci sono sempre stati, leader forti, leader deboli, popoli forti, popoli allegri, popoli arrabbiati, popoli in competizione e a volte questi ingredienti hanno creato cose straordinarie, le cose straordinarie del nostro mondo, a volte questi ingredienti hanno creato cose meno straordinarie. Se guardiamo anche solo l'ultimo secolo, il secolo scorso, qualcosina di non straordinario c'è stato, i milioni di persone che sono morti in guerre, nei campi di concentramento, le distruzioni, le tensioni, le crisi. Se noi guardiamo al mondo, se voi guardate al mondo di oggi, lo seguite nei media quotidianamente, giorno dopo giorno, dopo momento, la sensazione che abbiamo di questo mondo è della maionese impazzita. Prendete solo le notizie degli ultimi giorni, il rumore, il brusio di fondo, crisi della democrazia, recessione di nuovo, dubbi sulle elezioni europee, in Grecia che si va in piazza, non per la crisi della Grecia, ce l'aspetteremmo, ma per il nome della Macedonia e della Macedonia sopra. Voi sapete che in Grecia c'è una regione che si chiama Macedonia e sopra c'è uno stato che vuole chiamarsi anche lui Macedonia. Quello stato, per l'obiezione della Grecia, è da decenni che si chiama un nome impronunciabile, perché è senza vocali, una roba così, perché non si può chiamare Macedonia. E questi giovani di questo stato dà una vita, il loro dramma, quando si presentano a una festa, tu di dove sei, uno dice italiano o spagnolo, lui dice igro, la sigla di questo paese è impronunciabile. Finalmente si sono messi d'accordo i due leader, il primo ministro della Grecia e quello del paese sopra, che vuole chiamarsi anche lui Macedonia, hanno fatto questa soluzione clamorosa. Quello sopra si chiamerà Nord Macedonia e la regione della Grecia si chiamerà Macedonia. Trent'anni di negoziato. Ma dopo questi trent'anni di negoziato, pensate che creatività, una creatività incredibile, dopo trent'anni di negoziato sono scesi in piazza frange dell'opinione pubblica, sia nella Nord Macedonia, che non si chiama ancora Nord Macedonia, ma che vorrebbe chiamarsi Nord Macedonia, che in Grecia. E possiamo andare avanti su queste pazzie di questo nostro mondo che ogni giorno ci tormentano. Ieri, non entro nelle motivazioni delle parti, ma ieri in un'Europa la presa con Brexit, in un'Europa che ha un Putin assertivo, un Trump che scommette sulla divisione, un'Africa che cresce e che manderà milioni di persone nel tempo, un Medio Oriente nel gran caos. Ieri la Francia ha richiamato il suo ambasciatore dall'Italia. Succede in diplomazia. Richiamare un ambasciatore nella diplomazia è uno dei passi verso la rottura dei rapporti diplomatici, verso l'attenzione di due paesi fondatori dell'Unione Europea. Un'Unione Europea che in questo momento, ve ne parlerà Ricoletta dopo, ha un po' di altri problemi. Non sto giustificando né una parte né l'altra, non sto entrando nella questione, ma sto dicendovi quali sensazioni di maionese impazzita abbiamo pensando che due paesi, non è l'America con la Corea del Nord perché ha le bombe, vuole mandare i missili, dove non ci sono neanche gli ambasciatori, non ci sono rapporti diplomatici, stiamo parlando di due paesi amici. Ecco, noi cercheremo in questa chiacchierata un po' accorciata dal mio ritardo, chiedo però agli organizzatori se io fino a che ora posso andare, perché alle 11 arriva Enrico Letta, ma fino a 5-10 minuti alle 11 posso andare? Sì, no, lo so, però dice mezzo all'orario di origine previsto, ma posso tirare? Ecco, nel senso che voi avete fatto un intervallo preventivo col mio ritardo e vi chiedo la pazienza di avere qualche minuto in più. Grazie. Allora, noi cercheremo in questa chiacchierata di dimenticarci il rumore, il brusio della quotidianità, della singola notizia e cercheremo di fare insieme rapidamente, e cercherò di essere chiaro, uno sforzo di guardare un po' che cosa sta cambiando nel lungo periodo. È il tema di questo ciclo, non la quotidianità, ma le grandi trasformazioni. E per guardare le grandi trasformazioni su alcune parole chiave, la demografia, i conflitti, la democrazia, l'economia, per fare ciò, vi chiederò uno sforzo, faremo assieme uno sforzo, di guardare un pochino indietro, cioè andare a vedere com'erano le cose 10, 20, 30 anni fa, ma guardare indietro senza nostalgie. È solo il momento delle nostalgie, ci sembra che il passato, quello delle guerre, dell'Olocausto, fosse bellissimo rispetto a questo presente di maionese impazzita. Guarderemo su ciascuna parola, demografia, democrazia, conflitti, un pochino indietro, ma anche dove possibile un pochino avanti, cioè con la veduta lunga, guarderemo 30, 40, 50 anni di come sono cambiate alcune realtà, cercando appunto in questo lungo periodo di cogliere non la notizia del giorno, ma le trasformazioni più profonde, quelle trasformazioni sotto traccia, che stanno rimodellando questo mondo, questo mondo che cambia appunto il nostro titolo. E io partirò dalla prima variabile che analizzerò con voi, che è quella della demografia. Mi piace vincere facile, perché la demografia, di tutte le cose in cui parlerò, è la scienza più esatta, cioè noi sappiamo quanta gente c'era nel mondo 50 anni fa, e abbiamo una previsione abbastanza buona di quanti abitanti e dove li avrà il mondo fra 20-30 anni. Tutto il resto, sull'economia, sulla politica, le variabili in gioco sono così numerose che non siamo in grado di fare previsioni significative. E cosa ci dice punto numero uno dei dieci punti, perché così articolerò la mia presentazione, dieci immagini sul mondo che cambia, un focus particolare su la più importante trasformazione, è quella di rubo il titolo del film Benvenuti al Sud, ma stiamo andando in un mondo del Benvenuti a Sud-Est, dove si passa a un'importanza non del Nord-Ovest, noi, ma una crescente importanza del Sud-Est, per poi fare un cenno, se avremo tempo, sui prossimi anni e il significato di questo ritorno al giochi di potere del XIX secolo. La parola giochi è gradevole, i giochi del XIX secolo non necessariamente erano stati tutti gradevoli, voi che li state studiando a scuola in questo periodo. Dicevo, partiamo dalla prima delle dieci immagini del mondo che cambia. La prima delle dieci immagini del mondo che cambia, vi dicevo, è la demografia, cioè la popolazione. E cosa sta succedendo in questo mondo in termini di popolazione? Ma noi passeremo in cento anni, dal 1950 al 2050, in un mondo dove la metà della popolazione era e sarà asiatica, quindi questo non cambia, ma cambia il resto, l'altro 50%. Nel mondo di 50 anni fa, di questa metà, metà asiatici, dell'altra metà, il 30% erano europei e nordamericani, quello nord-ovest di cui parlavamo, e l'Africa era il 10%. Fra trent'anni, cioè nel 2050, cioè cento anni dopo quel mondo che vi ho descritto, noi entreremo in un mondo dove la metà saranno sempre asiatici, ma cambia l'altra metà. europei e nordamericani saranno il 10% e gli africani saranno il 30%, cioè ci scambiamo il ruolo con l'Africa. E questa è una prima grandissima trasformazione, cioè quel mondo del passato che avevamo era un mondo fondamentalmente dominato da quel 30% di europei e americani, bianchi cristiani, che gestivano un mondo fatto a metà di asiatici e in piccola parte di africani. Quei bianchi cristiani del mondo del passato saranno il 10% nel mondo del futuro. Li troveremo alla trasmissione Chi l'ha visto, più che in grande diffusione in giro attorno a noi. Ma quello che cambia nella demografia, e ci deve far riflettere, è questa seconda slide, la famosa curva demografica, che abbiamo sempre chiamato piramide demografica, perché era una piramide, 1950, ma che non è più una piramide nel 2050, è una sorta di rettangolo un po' sformato, perché la parte della popolazione superiore agli 80 anni assume un ruolo simile alla popolazione intorno ai 40-50, e non c'è più quello che abbiamo sempre visto, un mondo fatto di tantissimi giovani, tantissime persone di media età, fino ad arrivare a un numero limitato di persone più adulte. Questo è il mondo nel suo insieme, ma se io poi zoomo e vado a guardare due realtà, abbiamo parlato dell'Africa che cresce e del resto che diminuisce, se io vado a guardare due paesi per confronto, il Giappone e la Nigeria, vedo una situazione incredibile, perché nel Giappone non c'è più neanche il rettangolo, anzi il rettangolo si è stretto ancora di più, e guardate quanti pochi giovani ci sono rispetto alle altre 0-4 anni, 10-14 anni, mentre invece nella Nigeria rimane quella che noi avevamo nella nostra mente, ovvero la piramide geografica. Pensate solo questa slide cosa significa sul tema migrazioni, cioè pensate che la sola Nigeria nel 2050 avrà gli stessi abitanti di tutta l'Europa, cioè un solo paese africano avrà gli stessi abitanti di tutta l'Europa. Pensate quante barche nel Mediterraneo dovranno trovare un porto con a bordo dei giovani nigeriani che cercheranno di arrivare in qualche paese europeo, pensate quanti porti dovranno essere chiusi in tutta l'Europa, pensate quanti liti fra paesi che ricevono e altri paesi che non vogliono ricevere per scaricarsi la nave che non può prodare. Ma a complicare questa situazione demografica e quindi anche dei flussi migratori, per i motivi che vi ho detto, c'è una seconda trasformazione, non è la seconda immagine, ma è il fatto che le temperature cambiano. In blu vedete, nero la media delle temperature negli ultimi cento anni, in blu nei primi cinquant'anni scorsi come andavano le temperature, sotto la media, in rosso, adesso lo rivedete, gli ultimi decenni. Cosa vuol dire questa slide? Che negli ultimi cinquant'anni le temperature, appaiono ora in rosso, sono sempre state sopra la media, è il climate change, è uno degli aspetti del climate change. Quello che ha fatto sì è che in decenni le temperature sono aumentate di 0,6, quasi un grado, fa ridere pensare che un grado faccia la differenza, ma un grado, un grado e mezzo determinano parte del mondo sommersa dall'acqua. Il cambio della temperatura determina che in alcune parti del mondo ci siano crescenti siccità, in alcune parti del mondo crescenti alluvioni. E questo che impatto ha? Cosa centra con la popolazione? C'entra e come? Perché succedono due fenomeni insieme. La popolazione aumenta in certe parti del mondo, in quelle stesse parti del mondo c'è meno terra arabile disponibile per le coltivazioni. Guardate questa slide. Noi nel 1960, in media, i cittadini del mondo avevano 4 ettari a testa per coltivare cibo, nel 2015 sono diventati 2, la previsione sul 2050 è che sia un ettaro e mezzo. Quindi più gente, meno cibo in certe parti del mondo e quindi uno stimolo in più per muoversi. Uno stimolo a muoversi ce l'ha sempre avuto il mondo, uno stimolo in più in certe parti del mondo. La seconda dimensione che cerco di esaminare con voi è quella dei conflitti. cosa ci mostra questa slide? Che contrariamente al senso che il rumore, il brusio di ogni giorno ci dà, di essere in un mondo con molti e crescenti conflitti e possibilità di conflitto, contrariamente a questa sensazione, il mondo in realtà sta avendo molti meno conflitti che in passato. La media dopo guerra, dimentichiamo le guerre mondiali, dal 1946 in poi è stata intorno ai 7-8 guerre all'anno, ora siamo in una situazione di record low, molte meno del solito. Tutto bene quindi? Sì, se considero come conflitti quelli tradizionali che noi abbiamo vissuto in passato. Cosa vuol dire? Il conflitto tradizionale è quando c'è lo Stato A che dichiara guerra allo Stato B, lo Stato B reagisce e iniziano a bombardarsi. A volte lo Stato A ha degli alleati, quindi avrò A, A1, A2, A3 e lo Stato B ha degli alleati, B1, B2, B3. Ma sono due Stati che si fanno guerra, con i loro eserciti, le loro bandiere e le loro divise. Se io guardo questo tipo di conflitti, il record è basso, quindi good news. Ma se io guardo i nuovi conflitti, che non sono A e B, ma sono conflitti ibridi o guerre civili, ibridi vuol dire che c'è una guerra dentro uno Stato, una guerra civile, ma alcune parti di quella guerra civile sono sostenute, aiutate da un altro Stato. Pensate alla Siria. La Siria è una guerra civile, ma è realmente una guerra civile, se in quel conflitto stanno combattendo formalmente o informalmente i turchi, gli iraniani, i russi, gli americani, i sauditi, gli emiratini. Quindi noi lo categorizziamo come guerra civile. Pensate allo Yemen. C'è una parte dello Yemen che sta combattendo con l'altra parte dello Yemen, ma dietro le due parti ci sono soldati di altri paesi. O pensate all'Ucraina. È una guerra civile. Il governo di Poroshenko contro i ribelli del Donbass e di altre regioni. Ma sappiamo tutti che nei ribelli del Donbass ci sono contractor russi che non hanno la divisa russa, ma sono pagati dal governo russo per difendere le popolazioni russe di quella zona. Quindi se io metto in the picture anche quei conflitti lì, la situazione cambia. E abbiamo giustificato quel senso di brusio, di rumore che ci dice stiamo vivendo in un momento conflittuale. Guardate come cambia. Si passa da quel bluettino record low a una situazione di giallo ed arancione che cambia radicalmente l'immagine. E questi conflitti tradizionali o nuovi che siano continuano a essere anche conflitti sulle risorse. Conflitti sulle risorse. Perché si facevano i conflitti in Africa e in altre parti del mondo? Perché uno Stato era sempre in guerra? Perché aveva o il petrolio o i diamanti. Giusto? Perché quello voleva dire che c'erano interessi di altri Stati a destabilizzare e entrare nel conflitto. Ci sono ancora quei conflitti. È cambiato l'oggetto del contendere. Nella Repubblica Centroafricana, scusate, Repubblica Democratica del Congo, 30 anni di guerra non sono per il petrolio, non sono più per i diamanti, ma sono per il tantalum. E il tantalum è quell'ingrediente, non per la maionese questa volta, quella materia prima preziosissima perché serve in tutti i dispositivi elettronici, i cellulari in primis. I cellulari, tutti voi avete un cellulare con dentro un pezzettino di tantalum. Per sfortuna della Repubblica Democratica del Congo, in quel paese si produce il 50% del tantalum del mondo. Chi controlla il Congo controlla il tantalum, chi controlla il tantalum controlla le telecomunicazioni del futuro. Ed ecco perché insieme a Rwanda, la Repubblica Popolare Democraticica del Congo, hanno questa materia prima, ed ecco perché. Guerre che si fanno con armi tradizionali, per risorse nuove o antiche, con armi tradizionali, è tornata di moda tristemente l'arma chimica che avevamo bandito da decenni, tornano di moda le tensioni sul nucleare dopo la cancellazione dell'accordo fra Russia e America sui missili a media gittata, ma sappiamo tutti che le guerre si fanno anche con armi diverse. E qui ci sono delle novità incredibili. Prima il traffico di armi era in mano ai grandi trafficanti sottobanco che vendevano, ma adesso un'arma con una stampante 3D me la posso costruire. Quando noi avevamo la vostra età, a noi, non a me personalmente, ma ad alcuni della mia generazione, veniva insegnato come costruirsi in casa le bombe Molotov. C'era un giornale satirico, il male che pubblicava le istruzioni per fare le bombe Molotov a casa, cioè anziché fare la maionese, cosa facciamo stasera? Una decina di bombe Molotov. Adesso non è questo lo strumento, ma le armi sono fabbricabili in casa. Ma la domanda è servono per mettere in ginocchio questo mondo? Servono davvero armi incredibili? No. Quanti di voi hanno un drone a casa? Sulla mano? O quanti di voi conoscono un amico che ha un drone sulla mano? Voi avete visto cosa è successo a Gatwick due mesi fa? Un vostro amico potenziale, grazie mille, scusi, una persona con un drone, quanto costa un drone? Cheap? 200 euro? 200-300 euro? Con un drone ha bloccato per due giorni l'aeroporto di Gatwick. Ok? E voi direte, vabbè, succede. È un deficiente che non si sa, non si ha ancora capito, perché poi la notizia è stata abbastanza abbandonata dai media. Ma perché è stata abbandonata? Perché quel deficiente che ha messo il drone attorno all'aeroporto di Gatwick, creando problemi al traffico aereo, potrebbe assomigliare nel 2019 a quei deficienti che vent'anni fa lanciavano i sassi dal cavalcavia. Avete sentito questa storia? C'era un cretino a cui un giorno è venuto in mente di mettersi su un cavalcavia e buttare un sasso da sopra. E quel sasso ha ucciso una persona sotto il cavalcavia, perché gli è arrivato sullo schermo della macchina e la persona ha perso il controllo e è morto. E siccome i cretini non sono mai soli, si moltiplicano, si riproducono, nei giorni successivi noi abbiamo avuto un effetto emulazione, i cretini di ritorno. In altri cavalcavia, in altre parti d'Italia, altri cretini si sono messi a far cadere i sassi. Allora, voi pensate se lo stesso meccanismo, con la logica emulativa, si ripropone con la storia dei droni. Modalità semplice, otto amici che hanno fatto l'Erasmus insieme si sono conosciuti tutti ad Amsterdam in un ambiente fumoso e decidono facciamo tu a Malpensa, io a Berlino, io ad Amsterdam, tutti insieme lo stesso giorno alle 16.17 mandiamo un drone in cielo. Con quello noi mettiamo in ginocchio l'Europa. Non servono i missili a media gittata, le testate nucleari, i bottoni di Kim Jong-Jung, otto droni. Tre giorni di aeroporti chiusi in Europa sono una blow, una esplosione per l'economia e pensate, ma lo dico tornando a posto, se quest'ideuzza viene ai terroristi dello Stato Islamico che sono in questo momento in difficoltà sul terreno. Prima dovevano dirottare un aereo per andare alle torri gemelle, giusto? Complicato. Devi sapere, prendere un aereo, un aereo di linea, saltare su, buttare giù la sicurezza, poi adesso non si può più entrare negli aeroporti, ti controllano anche l'acqua minerale se stai entrando. Dieci droni possono in questo nostro mondo, e questo è il simbolo dei conflitti del futuro che, lo sapete, saranno giocati più sugli attacchi cyber, quelli che mettono in ginocchio, i droni non sono cyber ma il risultato è lo stesso, chiudono i servizi operativi di un aeroporto, di un ospedale, della Banca Centrale, dell'American Express, della vostra banca per i prelievi. Ogni giorno migliaia di attacchi di questo tipo. Se pensate alle professioni del futuro, studiate cyber, troverete lavoro, ci sono migliaia di persone che vengono prese per contrastare gli attacchi cyber. E questo sui conflitti. Andiamo avanti sull'immagine successiva. L'immagine successiva è sull'economia. Qual è il brusio che noi sentiamo leggendo il giornale, ascoltando, non leggete il giornale, non ascoltate la radio, quando andate su Facebook a guardare le notizie, cos'è che leggete sull'economia? Difficoltà, crisi, recessione, il reddito di cittadinanza sarà regressivo o no, la riforma della Fornero ci farà diventare tutti ricchi, belli, la crescita, recessione, il ministro dice no, non è una recessione, è uno stop, stop temporaneo. Ma qual è la situazione se guardiamo il mondo uscendo dalla situazione italiana? Abbiamo avuto dieci anni di crisi dal 2008, ma non tutto il mondo, noi l'abbiamo avuta la crisi, in quegli anni la Cina continuava più dieci per cento, più dieci per cento e la stessa cosa faceva il Vietnam, faceva l'Etiopia, faceva l'Ungheria, scusate la Polonia, quindi il mondo, noi quando parliamo di un mondo fondamente in crisi economica ci guardiamo come sempre l'ombelico, giustamente, guardiamo noi, soprattutto noi, Italia, Spagna, Grecia, noi un po' Europa, ma altre parti sono andate un po' meglio, ma globalmente stiamo, vi ve, la domanda, guardando indietro e avanti, stiamo vivendo un periodo dove economicamente, nel quale economicamente stiamo andando particolarmente male, no, se io guardo la situazione, la linea rossa e la media della crescita degli ultimi decenni, che è stata attorno al 3,5%, in blu, anno dopo anno, e noi siamo vicini al rosso, siamo tendenzialmente, noi mondo, stiamo tendenzialmente crescendo in media, abbiamo avuto periodi peggiori, guardate il blu del 2009, come era sotto, guardate l'81, guardate il 73, crisi petrolifera, quindi dal punto di vista economico, non andiamo alla grande, ma non è il momento peggiore della storia degli ultimi 50 anni, ma qual è il problema? Il problema è che questa crescita che è in media, ricordate, era trilussa, gli italiani mangiano in media mezzo pollo a testa, e trilussa diceva, però dipende, se tu sei nella metà che lo mangia intero o nella metà che non lo vede neanche il pollo, questa fa la differenza delle medie. Cosa ci dice? Perché, nonostante questa crescita in media buona, soffriamo? Perché, ci sono, paesi che stanno andando molto forte e con India, Cina, molti paesi in Asia, ecco che cominciamo ad arrivare a benvenuti a sud-est, e ci sono paesi, pensate il caso della Grecia, che hanno perso un quarto della ricchezza nel 2008 e sono ancora a quel livello lì, l'Italia è ancora sotto il livello del 2008 e quindi siamo ancora in sofferenza, ma ciò che conta soprattutto è che guardando il mondo, complessivamente nel mondo, noi abbiamo una situazione dove la crescita che pure è in media non basta alle economie avanzate per recuperare ciò che hanno perso e non basta ai paesi emergenti per dar da mangiare alla popolazione che cresce tantissimo, perché ciò che conta è il reddito pro capite, se io Etiopia o Nigeria cresco del 10% ma la mia popolazione cresce del 20% i singoli cittadini del mio paese guadagnano sempre meno di prima, è chiaro? E questa è un po' la situazione di conto. ma quello che su cui dobbiamo stare attenti quindi cresciamo in media quello su cui dobbiamo stare attenti è che se succedesse qualcosa nei prossimi mesi e anni abbiamo meno strumenti per rilanciare la crescita. Perché? Perché questo risultato simile alla media si sta ottenendo in una situazione straordinaria cioè non abbiamo mai avuto tassi di interesse così bassi guardate che record basso voi sapete che se i tassi di interesse in molti paesi avanzati sono a zero sono negativi in Germania cioè se tu vuoi soldi non devi pagare da una banca in realtà paghi qualcosina ma quasi ti paga la banca perché i tassi sono bassissimi e i tassi quando sono bassissimi guardando con la veduta lunga non possono che aumentare perché più bassi di così non possono e se aumentano i tassi questa economia avrà qualche tentennamento. La seconda cosa che è eccezionale in questo momento noi parliamo di guerre commerciali ma anche i tassi cioè le tasse per esportare beni sono a un livello record e l'elemento che è ulteriore preoccupante è che invece i nostri debiti i debiti degli stati e delle aziende sono al livello più alto degli ultimi decenni. Andiamo alla quarta immagine del mondo che cambia. La quarta immagine del mondo che cambia è sui migranti voi sarete annoiati di parlare di migrazioni perché il tema delle migrazioni è in tutto il mondo e particolarmente nel nostro paese il tema di cui maggiormente si parla. Se voi pensate negli ultimi sei mesi quasi tutti i giorni le prime pagine dei giornali avevano qualcosa sui migranti in un anno in cui il nostro paese ha ricevuto un numero di migranti record low parliamo di alcune decine di migliaia 20-30 mila cioè non stiamo vivendo un'emergenza migrazione in Italia perché 30 mila migranti sono un numero risibile ne abbiamo ricevuti negli anni precedenti ma questo tema è centrale in Italia come in tutto il mondo e come lo capiamo? Stiamo vivendo in un momento sulla migrazione particolarmente esplosivo sono esplose le migrazioni in questi ultimi periodi e qui vediamo due slide la prima slide scusate ci rassicura perché dice se io guardo al 1960 e guardo al 2015 il numero dei migranti è passato la percentuale sulla popolazione dei migranti è passato dal 2-4 al 3-3 vi sembra un'enorme esplosione dal 2-4 al 3-3 no una crescita di alcuni punti percentuali certo se io metto numeri veri assoluti passiamo da 72 milioni a 243 milioni è ovvio la popolazione si è molto aumentata il 2-3% su una popolazione diventata molto più ampia fa dei numeri più alti però pensateci quei migranti quei milioni di migranti prima si mescolavano in un mondo fatto da 2 miliardi adesso si mescolano in un mondo fatto di 4 miliardi quindi il senso di invasione che viene denunciato da molti sarebbe teoricamente percepibile in modo diverso perché quello che conta è quanti per chi ha problemi con questo quanti ne ho attorno a me non il valore assoluto e se io divento più ampio come popolazione in termini di percezione dovrebbe essere cambiato ma qual è allora il motivo se non c'è stata questa enorme esplosione che fa sì che questo tema dei migranti sia ora così tossico quando intendo tossico ragazzi sul tema dei migranti intendo che il tema dei migranti è nella più parte dei paesi il tema numero uno nelle campagne elettorali cioè tu vinci o perdi un'elezione sul tema dei migranti volete un esempio se siete ancora svegli surreale il governo del Belgio un mese fa stava cadendo chi di voi fosse esperto di Belgio mi direbbe sì ma il governo del Belgio cade sempre perché il Belgio è un paese che ha un sistema elettorale come quello italiano proporzionale e ha una grande divisione fra le due comunità quella fiamminga e quella vallona che si amano in modo limitato e i governi sono sempre molto fragili perché devono tenere insieme queste varie dimensioni di partiti e di comunità quindi cadono voi siete troppo giovani ma fino a vent'anni fa noi era una battaglia fra Italia e Belgio su chi riusciva a fare un governo che durava più di un anno in media i governi dell'Italia del Belgio duravano un anno e voi direte perché questo cioè io che è in ritardo oltretutto sulla sua tabella di marcia ci fa perdere tempo sul Belgio visto che non è una notizia così devoluzionaria perché il governo del Belgio un mese fa sapete perché stava accadendo? perché il ministro degli est del Belgio è andato a Marrakesh non in vacanza è andato a Marrakesh e ha firmato il Migration Compact delle Nazioni Unite voi sapete cos'è il Migration Compact? le Nazioni Unite con il tema delle migrazioni così importanti hanno detto dobbiamo metterci tutti i stati del mondo 190 stati intorno a un tavolo e dare una risposta se tu metti 190 stati intorno al tavolo che sono alcuni stati di origine dei migranti cioè quelli che li mandano alcuni Nigeria Zambia alcuni stati di transito quelli che lucrano sul passaggio Niger e alcuni stati di arrivo dei migranti Italia Grecia Svezia non hanno necessariamente interessi convergenti ve ne siete d'accordo? il Gambia vuole che i migranti escano perché vanno in Italia e mandano le rimesse che aiutano l'economia mandano a casa i soldini come fanno le badanti che avete dalle vostre nonne eccetera il Niger lucra con i ristoranti gli alberghetti i taxi per il passaggio e l'Italia la Grecia la Spagna non li vogliono quindi se io li metto tutti intorno al tavolo questi e così è di fatto quello che l'ONU ha approvato non è una legge che impone a qualcuno di bloccare i migranti o altri di prendersi dice come il Papa la Domenica l'Angelus sarebbe meglio se fossimo tutti buoni senza guerre morerebbero meno persone se ci fossero vaccini non ci sarebbero malattie il Migration Company dice per risolvere il problema delle migrazioni sarebbe auspicabile che paesi di origine di transito e provenienza si parlassero punto il ministro niente niente di più perché se no gli altri non firmavano il ministro degli est del Belgio è andato a firmarlo e un partito che sostiene il governo ha tolto il sostegno del governo e il governo è caduto perché ha firmato una frase così generica una dichiarazione di principio questo per capire quanto è toxico ma è tossico il tema dei migranti anche nei rapporti fra strati l'Italia litiga con la Francia la Grecia litiga con l'Austria eccetera eccetera il Messico con gli Stati Uniti Trump voglio costruire il muro e lo faccio pagare a te messicano eccetera eccetera allora cosa è cambiato sui migranti per far diventare un'esplosione che non c'è in un fenomeno così tossico è cambiato questo io lo faccio vedere solo per l'Europa dove vedete rosso c'è movimento di migranti nel 2003 come tuttora il movimento di migranti era dentro l'Africa perché se tu hai pochi soldi non fai il viaggio della morte che costa 5 mila dollari vivi in un paese africano ti sposti nel paese africano vicino dove si guadagna qualcosina in più come facciamo noi con la Svizzera ci sono tantissimi italiani che vanno a lavorare in Svizzera perché vanno a lavorare in Svizzera perché amano il lago di Ginevra no perché se tu sei un insegnante in Italia guadagni 1400 euro se sei un insegnante in Svizzera ne guadagni 5500 e ti sposti è sempre stato così perché ci si sposta dal sud Italia al nord Italia perché ci sono più opportunità non lo blocchi quel flusso allora in Africa ci si muove dentro l'Africa l'80% dei migranti africani è in Africa ma poi succedono cose eccezionali tipo la guerra in Siria o la guerra in Ucraina immagine 2015 che riempiono di rosso anche l'Europa noi stiamo in Europa vivendo questa dinamica perché è cambiato il flusso dei migranti a causa di eventi eccezionali purtroppo l'evento eccezionale che è la guerra in Siria non è eccezionale per niente perché è una guerra che si trascina da dieci anni perché non siamo in grado di procedere andiamo alla quinta immagine del mondo che cambia la quinta immagine del mondo che cambia tocca un tema delicatissimo democrazia uno dei temi che sentite che affronterete anche a scuola è quello di questi anni della crisi della democrazia uomini forti ritorno a dittature e su qui su questo la tendenza alla nostalgia sul passato appare prima era meglio prima era diverso i partiti di un tempo è vero che noi stiamo vivendo una crisi della democrazia in questo momento rispetto al passato no perché se no però farò delle precisazioni perché se guardo questa slide i dati sono Freedom House questi sono i paesi classificati secondo Freedom House come democrazie noi dal 1970 stiamo andando in crescita continua aumenta il numero dei paesi democratici in modo significativo quando abbiamo le nostalgie sul passato ci dimentichiamo che 40 anni fa quasi tutto il mondo era una dittatura buona parte dell'Africa era una dittatura buona parte dell'America Latina era una dittatura tutto l'Est incluso paesi che sono europei erano una dittatura la Spagna era ancora una dittatura il Portogallo fino a un certo punto quello era il mondo del passato e rispetto a quello stiamo andando avanti ma cos'è che allora ci fa percepire la crisi questo concetto di crisi della democrazia non tanto che la Turchia di Erdogan torni dittatoriale la Turchia è quasi sempre stata sotto una dittatura non è anche l'Egitto che con Al-Sisi torna dittatoriale è quasi sempre stata una dittatura la Cina lo è stata dalla rivoluzione la Russia che non è tanto democratica lo è un pochino di più della Russia sovietica ma qual è il tema centrale? è che i paesi non democratici contano molto di più di un tempo cioè un tempo c'era la Russia la Cina non democratica ma who cares a chi importava la Russia era una potenza militare certo ma la Cina non contava niente e soprattutto noi paesi democratici avevamo una certezza c'era una sorta di regola democrazia uguale sviluppo crescita e uguaglianza dittatura uguale non crescita povertà noi vedevamo le immagini dei russi e dei cinesi con le toppe e i pantaloni i magazzini vuoti oggi noi abbiamo regimi non democratici che crescono del 10% e noi democratici che non cresciamo noi vediamo disuguaglianza crescente e lì vediamo gente che diventa ricca ceto medio milionari la novità non è che la democrazia è in crisi è che le non democrazie stanno proponendo un modello alternativo che ha comunque dei risultati e quindi quando noi siamo presi dai lacci e laccioli della democrazia perché la democrazia è bellissima ma rallenta complica in molti paesi pensate al Brasile di Bolsonaro di oggi la gente si dice ma io fra ricchezza e democrazia fra una democrazia che mi ha consegnato corruzione violenza nelle strade recessione economica e una dittatura che mi promette ordine e progresso le parole che sono nella bandiera brasiliana Bolsonaro ha vinto con le parole della bandiera ordem e progresso chi se ne importa se pestano qualcuno se mettono qualcuno in galera l'importante ecco questo è il grande tema e questo sta con il desiderio dell'uomo forte dell'uomo forte che fa veloce che non deve seguire i vincoli della magistratura dei tecnici dei media pensate a Trump pensate anche altri casi più vicini a noi questo è il germe che sta penetrando anche nell'occidente e che sta aprendo qualche elemento per cui ci fa dire la democrazia ha qualche problema ma qui ho già introdotto e chiudo il tema del benvenuti a sud-est perché questi spesso questi sistemi non pienamente democratici sono nel sud-est del mondo e la grande novità è che il sud-est del mondo sta crescendo tantissimo in un mondo che è sempre stato dominato prima dall'Europa poi dall'Europa degli Stati Uniti col Giappone culturalmente economicamente si stanno affacciando degli attori di vario tipo di varia forza la Cina è quella che ci viene in mente per prima ma non è solo la Cina la Cina è la prima della classe ma c'è un insieme di economie in Asia che stanno tirando tantissimo paesi che stanno diventando più consapevoli del loro ruolo e che vogliono contare di più a livello mondiale contare di più a scapito di chi? a scapito di quegli altri quei bianchi del 30% europei e americani del passato che avevano plasmato il mondo a loro comodo e con le loro regole guardate queste slide e poi mi fermo perché so che devo passare guardate queste slide sulla, beh prima questa nel 1980 questi cosiddetti paesi emergenti producevano il 20% della ricchezza del mondo nel 2023 questi azzurri i cosiddetti emergenti sono il 50% siamo al pareggio ma guardate e chiudo su questo guardate queste immagini dove era nel 1980 il baricentro della crescita baricentro della crescita vuol dire dove era il punto dove tracciando un grande cerchio io totalizzavo l'80% della crescita mondiale non voleva dire che era sulle isole di Capoverde voleva dire che era nell'Atlantico perché cresceva l'America e l'Europa e lì era il punto dove io prendevo il massimo della crescita 1980 guardate lo stesso dato sul 2014 non vuol dire che è la Siria il baricentro della crescita ovviamente ma vuol dire che siccome la forte crescita è dell'Asia il baricentro non è più in mezzo al mare ma è lì perché l'Asia pesa molto guardate dov'è il baricentro nel 2045 sulla Cina cioè la Cina è il paese che produrrà di più ma la Cina e l'Asia saranno il baricentro della crescita e qui noi abbiamo un problema qui abbiamo un problema e sarà il tema di Ricoletta sull'Europa perché in questo mondo che cambia noi abbiamo questa situazione il club dei paesi potenti del vecchio mondo del mondo del passato era il G7 sette paesi democratici i sette paesi più ricchi del mondo e che colore ha dove è quel club dei ricchi tutto a nord-ovest giusto? dieci anni fa con la crisi economica noi abbiamo dovuto allargare il club perché non bastavano quei paesi a decidere per il mondo perché eravamo in crisi noi e stavano andando bene gli altri che non c'erano e abbiamo creato il G20 e guardate il G20 come è diverso e come già comincia a riempire la zona di sud e sud-est del mondo ma facciamo una provocazione concedetemi una provocazione che non è corretta metodologicamente immaginiamo che il criterio per entrare nel G7 non sia più di essere democratici puoi anche entrare non democratico come sarà il G7 fra vent'anni? così guardate la solitudine della Germania là in mezzo l'unico paese europeo che sarà nel G7 guardate quanto è piccola la Germania là in mezzo rispetto agli altri potenti del mondo guardate soprattutto di che colore sono gli altri potenti del mondo quasi tutti a sud-est noi di questo ragazzi dobbiamo tener conto dobbiamo tenerne conto e chiudo non posso più farvi il discorsetto moralista sul rigore e sulla puntualità perché sono partito male io e quindi mi invento una chiusura diversa rendersi conto vuol dire se posso permettermi due o tre cose la prima abituarsi a alzare la testa rispetto al proprio ombelico e cercare di qualunque sia il tema che sia il lavoro che sia qualunque sia abituarsi ad averla veduta lunga sul passato e sul futuro alzando la testa e averla però se posso permettermi senza nostalgie sul passato e senza paura sul futuro secondo sicuramente la vostra generazione vivrà in un mondo con un grado di disordine vedi maionese impazzita un po' più alta ma la good news la buona notizia è che se togliamo la nostalgia un po' di disordine di maionese impazzita c'è sempre stata anche prima di voi si chiamava in modo diverso erano crisi economiche più forti per motivi diversi erano conflitti politici forti e dolorosi le fake news che vengono adesso e i social che vengono adesso messi al centro come imputati di tutti i malanni del mondo le fake news ragazzi ci sono sempre state le fake news le compravamo noi le fake news noi le compravamo dai giornali se i russi i sovietici invadevano l'ungheria tu andavi quel giorno a comprare un giornale e ti diceva i fratelli sovietici hanno salvato gli ungheresi arrivando con i carri armati per aiutarli compravvi un altro giornale lo stesso giorno c'era scritto che invasione dei sovietici all'ungheria morti ed eliti compravvi il giornale della chiesa ti diceva nell'arrivo i carri armati hanno distrutto due chiese in prima pagina c'erano due chiese distrutte e potrei farvi migliaia di esempi c'erano sempre le fake news quello che cambia è la velocità con cui vengono circolate e la la difficoltà del capire quando sono fake così come c'è sempre stato ragazzi il timore che i media rovinassero i giovani quando era giovane mia mamma il dibattito era su la sua nonna diceva con tutta quella radio che sente quella ragazza diventerà cretina quando poi sono diventato ragazzino io era arrivata la televisione e mia nonna mia mamma che aveva superato la radio diceva con tutta la televisione che vede diventerà cretino e noi vedevamo alla mia età c'era un solo canale e sul canale nel pomeriggio si poteva vedere Vangelo Vivo e ragazzi di Padre Tobia che era un'opzione di scelta clamorosa giusto a reti unificate tutti i giorni ma poi io mi dicevo ma cosa avranno da dire tutti i giorni su sto Vangelo Vivo avevo otto anni e poi potevi verso fine pomeriggio tirarti su di morale vedendo non è mai troppo tardi a cura di Alberto Manzi che ti insegnavano a scrivere quindi tu andavi a scuola al mattino e poi alla sera c'era Alberto Manzi che ti faceva le ripetizioni in televisiva ma anche quella cosa lì che vi ho detto per mia mamma che aveva superato il trauma della radio che l'avrebbe rovinata la testa era pericolosa per la mia formazione e adesso voi avete i social ragazzi se fosse vero che ci rimbambiamo per ogni media che appare voi ormai sareste delle capre ormai dei caproni perché mia mamma è peggio di mia nonna io sono peggio di mia mamma voi siete peggio di me siamo a un livello quindi anche su questo sì occhio attenzione intelligenza ma ci siamo già passati e siamo ancora tutti qui il mondo è ancora bellissimo con posti bellissimi con iniziative bellissime con persone incredibili che organizzano cose straordinarie quindi nonostante la maionese impazzita un po' di ottimismo e di vigilanza non fa male grazie mille ora a voi chi rompe il ghiaccio meno male che nei consigli per gli acquisti finali nel discorsetto moralista non ho anche detto la cosa importante è imparare a fare sempre le domande alle persone una almeno bene hanno il break nessuno fa domande hanno il break come? hanno un break sì 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 se non ci sono domande avete un break sì ce n'è una sarà la persona più odiata dagli altri perché stavano tutti sognando l'idea di dieci minuti di intervallo ah chi era? ah dietro dietro si alza la mano chi è che deve fare intervallo? tu buongiorno è possibile che la Francia esca dall'Unione Europea come ha già fatto l'Inghilterra? se proprio dovessi pensare a una scommessa sul primo paese che esce dall'Unione Europea dopo la Gran Bretagna che non è ancora uscita non mi verrebbe in mente proprio la Francia non mi spingo oltre ma non mi verrebbe in mente la Francia però io penso prendo la tua domanda penso che tutti i paesi ci penseranno bene tutti i paesi tutti i partiti tutte le forze politiche a proporre nei prossimi mesi anni l'uscita dall'Europa l'esperienza della Gran Bretagna che non è ancora finita sta sconvolgendo molti e il tema ma non voglio entrare in quanto dirà il presidente eletto fra poco non sarà tanto di nuovi paesi che vorranno uscire ma sarà tanto di paesi o forze politiche che renderanno marginale l'Europa aumenteranno i veti incrociati perché l'Europa faccia cose in più e l'Europa deve fare in più perché l'Europa anche chi di noi la difende a spada tratta non ha risposto in questi anni ai problemi e alle esigenze di molti suoi cittadini quindi il tema per rispondere non vedo a breve visto che neanche la Gran Bretagna ce l'ha ancora fatta una riproposizione di altri paesi che vogliono uscire soprattutto non la Francia vedo paesi che o partiti che ostacoleranno una politica dell'Europa più forte prego salve volevo fare una domanda arriveremo mai secondo lei in un punto dove il G7 sarà formato esclusivamente da paesi non democratici e ad esempio l'America da colosso quale simbolo che viene oggi rappresentato diventi un paese anche di poco conto la risposta è no no che l'America diventi un paese di poco conto la risposta è nettamente no l'America ha delle vantaggi competitivi e li farà valere anche a scapito di altri nel settore tecnologico nel settore dell'educazione nel settore della difesa è un mercato importante significativo è un un attore del commercio altrettanto significativo quindi si sta dibattendo da 20 anni del declino americano ma non c'è ancora il declino americano c'è un rallentamento americano sicuramente c'è in questo momento un rallentamento forte del prestigio americano e il prestigio è un elemento che in politica internazionale e parlarne davanti al presidente eletta che saluto e a cui do immediatamente la parola lascio immediatamente il podio dicevo il prestigio in politica internazionale non sto parlando in Italia Enrico sto parlando dei Stati Uniti il prestigio in politica internazionale conta oltre al è il cosiddetto soft power che conta quanto i cannoni e quanto il commercio e no anche alla sua domanda se è pensabile di arrivare non voglio neanche ipotizzarla immaginarla come scenario a un G7 fatto di paesi tutti di paesi non democratici io ovviamente c'è un altro ragazzo non so facciamo la domanda allora come di consueto se ci fosse qualche domanda il nostro oratore avrà il piacere di rispondere prego salve e volevo chiedere come mai la Germania nonostante le enormi tasse che ha dovuto pagare dopo la seconda guerra mondiale sia tuttora un paese emergente dell'Unione Europea ci fermiamo tutto il pomeriggio è simpatica la tua definizione di paese emergente i nostri amici tedeschi perché ha saputo fare ma non secoli fa vent'anni fa alcune cose che altri paesi alcune riforme che altri paesi non hanno saputo fare su una solidità del paese che c'è sempre stata ma che sulla quale ripeto 30 anni fa non tutti scommettevano quindi la Germania che è un'eccezione se vuoi ma da un altro lato è anche un segno di speranza era era 30 anni fa il paese malato dell'Europa e tu simpaticamente l'hai chiamato emergente altri lo chiamano bello che è emerso dentro l'Europa ed è di fatto il paese guida dell'Europa ma è la dimostrazione che con un po' di fatica e di olio di gomiti non è impossibile tirarsi su quando venivi definito paese in grande difficoltà ed era così io però sì prego falla senza microfono che proviamo a sentirti avrai una voce io volevo chiedere secondo lei che cosa i paesi democratici che stanno scendendo tra gli schietti e tra le volette possono imparare dai paesi non democratici e invece entreranno in sette no però io ho premesso che questa slide ti ricordi era una provocazione ho detto se ho preso il G7 come simbolo del mondo in passato dove sette paesi di nord ovest più il Giappone avevano un loro peso e ho detto facciamo una provocazione immaginiamo che dei due criteri per il G7 quello della democrazia non conti e conti solo quella della potenza economica e proviamo a proiettarci come provocazione al 2030 non volevo e non voglio dire che il G7 cambierà le regole ma non voglio neanche dire che il G7 sarà il perno della governance mondiale del futuro però prendo l'altro aspetto della tua domanda io ho citato prima questa nuova competizione cioè noi abbiamo vissuto in passato nella guerra fredda c'era una competizione fra due modelli antitetici un modello democratico dell'Occidente e il modello rappresentato dall'Unione Sovietica che era diverso e dicevo che quel modello aveva al di là dell'ideologia aveva una sioma chiaro democrazia uguale sviluppo non democrazia uguale non sviluppo potevi costruire le armi nucleari ma la gente moriva di fame adesso quel modello di contraposizione non c'è più c'è una contraposizione fra paesi pienamente democratici che non crescono necessariamente molto e paesi non necessariamente democratici che crescono abbastanza tanto e quindi c'è una competizione diversa prima era di sicurezza adesso di modelli anche economici che danno risultati comparabili se non addirittura migliori questa è la sfida e quando parlavo prima di una delle sfide della democrazia è quella che è meno facile che in passato negare altri sistemi di governo dicendo quelli ti portano alla fame non è necessariamente così e il gioco si fa più sottile ragazzi io starei tantissimo ma ho il dovere e il piacere abbiamo il solito break mi raccomando un quarto d'ora 20 minuti e ci troviamo qui subito grazie bene il secondo oratore di questa ottava giornata è il professore Enrico Letta beh se per Paolo Magri vi avevo suggerito di andare sulla rete per conoscere i dettagli della sua carriera ancora più forte è l'invito per chi volesse conoscere la personalità e la storia del professore Enrico Letta di qualunque motore di ricerca vi potrà dare tutte le informazioni relative io mi limito semplicemente a dirvi che è stato presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana dal 2013 al 2014 un anno abbastanza importante nella nostra storia d'Italia ed è stato ministro in diversi in diversi governi nel 1998 nel 1998 99 credo sia stato il più giovane ministro eletto dal governo in un governo italiano attualmente è professore presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi Science Po e ha pubblicato una serie di articoli l'ultimo una serie di libri scusate l'ultimo si intitola Ho Imparato e non voglio fare altre descrizioni perché credo che la sua presentazione avrà modo di incuriosirvi e vi porterà sicuramente a cercare e a ritracciare le sue caratteristiche grazie per l'ascolto e ecco voi Presidente Eretta vi ringrazio molto sono molto contento un grande ringraziamento a Piero Angela per me molto più che un punto di riferimento se io ho potuto scrivere un libro che si chiama Ho Imparato e che ho avuto dei maestri alcuni maestri con i quali ho lavorato direttamente altri maestri che hanno fatto per me da punto di riferimento fondamentale Piero Angela è uno di questi lo ringrazio di tutto quello che ha insegnato alla generazione come la mia e tutto quello che sta facendo come anche l'incontro che svolgiamo oggi e permettetemi di cominciare facendo semplicemente un riferimento a questa parola imparare e a questo Ho Imparato che ho messo al centro di un libro che ho scritto in questo periodo il riferimento è semplicemente per dirvi una cosa che è esattamente per voi che ho pensato per voi e per la vostra generazione e la cosa è la seguente quando si scrive un libro il libro è lì rimane fermo non si muove da quello che uno ha scritto in quelle pagine quello che si muove sono i dibattiti che poi ne nascono fuori avendo figli giovani e lavorando in università con dei ragazzi di 20 anni ho capito e mi sono detto dentro di me che per discutere oggi soprattutto con i più giovani un libro non basta perché so benissimo che voi a differenza delle nostre generazioni la gran parte delle informazioni le traete ogni giorno guardando 300-400 volte al giorno quello che c'è qui dentro e questa differenza di fondo che è una differenza fisica tra le generazioni è una differenza addirittura che oggi esiste tra quelli che hanno 25 anni e quelli che hanno 18 anni quelli che hanno 18 anni sono molto più in grado e molto utilizzano molto di più rispetto a quelli che hanno già 25-30 anni e allora siccome è così ho pensato di fare un esperimento e quello che vi chiederò è semplicemente se vi va di seguire questo esperimento l'esperimento è quello di unire insieme il libro e il telefonino è una cosa lo so abbastanza ardita ma ho pensato che potesse essere utile allora cosa ho fatto ho aperto un conto un mio account instagram so che anche qui c'è una differenza generazionale la mia generazione per la mia generazione i social media sono facebook e twitter se vi faccio una domanda chi di voi sta su twitter la minoranza chi di voi sta su instagram ecco fatto abbiamo avuto già la dimostrazione voi siete la generazione che sta su instagram la mia generazione ha scoperto i social media stando su twitter e io mi sono reso conto che parlando su twitter scrivendo su twitter non parlavo alla vostra generazione allora ho aperto un conto su instagram e ho deciso di fare che cosa di trasformare il libro il libro serve a dire delle cose e uno le può scrivere su un libro oppure uno le può dire queste cose allora ho aperto questo account twitter e ho cominciato ogni due giorni metto un video un mini video ho registrato ne ho registrati per adesso 20 e ne ho messi fino adesso 7-8 ogni mini video 40 secondi 50 secondi l'ho registrato io stesso in un posto emblematico ho fatto nel capitolo nel libro c'è un capitolo che parla di migrazioni è un tema di cui parleremo fra pochi minuti ho messo in questo capitolo delle proposte però ho detto voglio fare uno di questi mini video li faccio sul tema delle migrazioni e allora però sono andato in un posto particolare sono andato in Sicilia mi sono messo con le spalle al mare della Sicilia il mare della Sicilia è il mare come sapete da dove arrivano le barche dei disperati rifugiati non rifugiati con tutte le polemiche che ci sono e troverete lì quel video in cui in 50 secondi dico un concetto che richiama il capitolo del libro ne ho fatti altri alcuni di questi li ho fatti in alcuni viaggi che ho fatto in questo periodo per lavoro la sostanza qual è è che cerco in questi video di provocare delle reazioni fino adesso ho ricevuto centinaia di video di persone che li hanno visti e hanno reagito dicendo con un mini video anche loro sono contro quello che hai detto non sono d'accordo oppure sono d'accordo per questo oppure aggiungendo un'esperienza si sta creando si sta creando attorno a questo ho imparato un dialogo attraverso questi mini video che io trovo essere per me la cosa più interessante di questo esperimento l'esperimento di mettere insieme il libro e il telefonino attraverso forme di comunicazione diverse aggiungo ci tengo molto a questo il titolo l'ho messo perché per me il titolo è un inno ha una parola che è probabilmente la parola più importante di tutte ed è la parola che caratterizza le vostre vite voi siete qui e siete a scuola siete all'università per imparare ma c'è una differenza di fondo tra voi e la mia generazione e la differenza di fondo è enorme io vi sto parlando adesso e vi dirò delle cose dopo sull'Europa tra la vostra generazione e la mia generazione ci sono delle differenze tante ma ce n'è una in particolare quando io andavo a scuola e io ascoltavo qualcuno che veniva come sto facendo io con voi non avevo una possibilità che avete voi oggi qual è questa possibilità io vi parlerò di Europa vi dirò alcuna cosa sull'Europa e voi potete immediatamente controllare se le informazioni che io vi passo sono vere o sono sbagliate io vi dirò alcune cose che sono dei concetti delle idee però vi dirò alcune cose che sono anche dei fatti e voi potete immediatamente controllarle basta che andate su Google su Wikipedia e se io vi dicessi che l'Unione Europea è fatta di un miliardo e trecento milioni di persone voi andate lì e dite ma cosa cavolo ci dice questo l'Unione Europea è fatta di cinquecento milioni quanto è e guardate che fa una differenza enorme questo la differenza tra prima il professore poteva dire sostanzialmente cosa gli pareva non c'era nessuna possibilità di confronto immediato dopo uno poteva controllare e dire ma oggi il professore non può dire stupidaggini perché immediatamente c'è il controllo e soprattutto la vera differenza è che ciò che di positivo posso dirvi io non è semplicemente la trasmissione di un'informazione perché quella ce l'avete già adesso voi andate su il vostro telefonino e trovate l'informazione l'informazione cos'è che non trovate lì nel telefonino non troverete mai la bussola della vita e questa fa la vera differenza e quando vi dico che imparare è più importante oggi di ieri è proprio per questo perché voi siete tentati di pensare che sul telefonino ci avete tutto perché ci avete la risposta a qualunque domanda qualunque domanda ci avete mettete lì e ci avete la risposta ma il telefonino vi trasmette l'informazione non vi trasmette i punti cardinali di una bussola per orientarvi nella vita in una vita in cui sarete di fronte ogni volta a dover prendere decisioni che sono dovute sempre e continuamente ai cambiamenti che sono in corso e rispetto a questi cambiamenti la bussola è la cosa più importante ho fatto una premessa lunga però mi importava molto citarvi questo aspetto del telefonino di instagram del libro dell'imparare soprattutto e non fatevi trascinare oggi da quest'idea che imparare è inutile che imparare è faticoso e c'ho il telefonino che mi dà le risposte perché non è così nella vita non avrete mai a meno che non siate dei calciatori straordinari parlo dei maschi non avrete mai nella vita successo facile e anche per i calciatori il successo non è facile devi applicarti in ogni cosa devi faticare e il successo arriva se fatichi non esiste successo se non c'è fatica non esiste risultato se non c'è fatica e lo studio necessita fatica ma la fatica dà soddisfazione se il risultato è quello per il quale vi siete battuti mi hanno chiesto di parlare di Europa un argomento lo so tendenzialmente noioso quindi premetto che cercherò di far di tutto per rendere questo argomento invece interessante vi farò delle domande voi mi farete delle domande parleremo insieme discuteremo insieme dell'Europa di oggi e dell'Europa soprattutto di domani parto con un paradosso il paradosso è una cosa che ho ascoltato io adesso da quattro anni a questa parte ho lasciato la politica faccio altro mi occupo di insegnamento sia all'università e poi ho fondato una piccola scuola di politiche che è molto in parallelo con le cose che fate qui un percorso che gratuitamente diamo a 100 ragazzi italiani all'anno dentro le istituzioni li portiamo a Bruxelles li portiamo nelle istituzioni nazionali una cosa molto divertente molto interessante che mi fa molto apprezzare la vostra generazione voi siete una straordinaria generazione non deludeteci perché siete una generazione che secondo me è migliore delle generazioni che vi hanno precedute avete molte carte in più e sono convinto di quello che vi sto dicendo perché lavoro con i vostri coetanei provocazione che ho ascoltato da un professore asiatico che è venuto in università da noi e dall'Asia ha detto a noi europei voi siete veramente strani voi siete quelli delle tre P noi lo ascoltavamo con attenzione e ci ha detto la prima P pace non c'è mai stato un tempo nella storia dell'uomo in cui c'è stata una tale pace come quella che avete creato in Europa in questi 70 anni tra Francia e Germania ci sono stati secoli di guerra sono sempre stati in guerra ora non più tra Austria e Italia secoli di guerra adesso non più mettetele tutti insieme dentro l'Europa c'è sempre stata guerra sempre da quando c'è l'Unione Europea non c'è più guerra e oggi è il periodo di pace più intenso e quindi questo professore di Singapore asiatico ci diceva la prima P siete nel tempo in cui avete scoperto la pace le nostre generazioni qui ci metto insieme noi voi abbiamo sempre vissuto la pace ci sembra scontato nessuno di noi potrebbe mai immaginare nemmeno in questi frangenti di tensioni tra Italia e Francia che possano i carri armati passare da una parte all'altra dei confini possono succedere sono cose che non esistono esistono nei film non nelle realtà pace la seconda P dice lui prosperità non c'è mai stato un tempo nel quale siamo stati mediamente così ricchi ed è vero se prendete tutti i dati è stata una continua crescita la ricchezza media europea dei paesi europei non ha precedenti non ha precedenti ed è soprattutto il posto più prospero del mondo mediamente certo ci sono altre parti del mondo dove c'è ricchezza ma non è così diffusa e non è così solida come c'è in Europa e poi dice e poi però avete una terza P siete il regno del pessimismo pace prosperità e pessimismo perché dice lui non ho trovato posto al mondo dove la gente è più pessimista per il futuro e dice lui il paragone con l'Asia è impressionante in Asia tutti guardano al futuro con ottimismo voglia di fare sono tutti scatenati positivamente qui da voi prevale il pessimismo e mi domandava e ci domandava ma com'è possibile questo paradosso vi metto qui questa prima riflessione che è la base di quello che discuteremo insieme vi metto una seconda riflessione che è invece questa sull'Europa perché abbiamo fatto l'Europa e dove siamo adesso con la storia europea voi siete una generazione che non ha visto le fasi precedenti della storia dell'integrazione europea sicuramente le avete studiate a scuola le avete viste le avete viste all'università io vi do una chiave di lettura spero utile per voi per ripetere in tre minuti rapidissimamente le tre fasi che ci hanno portato fin qua e dire dove siamo oggi sapete tutti l'anno in cui è cominciato tutto è cominciato negli anni 50 i trattati di Roma che sono del 1950 i trattati di Roma la firma dei trattati di Roma nel Campidoglio sono i trattati che hanno fatto nascere l'Europa 1957 quindi tutto nasce a Roma qui nel 57 comincia la prima fase della vita dell'Europa e quella prima fase quanti erano i paesi europei all'inizio quanti eravamo 4 9 o 12 chi dice 4 chi dice 9 chi dice 12 eravamo 6 allora cominciamo con 6 paesi europei quindi i 6 paesi europei si incontrano e facciamo che cosa 6 paesi europei erano Francia Germania Italia e i 3 paesi del Benelux e che cosa succede all'inizio all'inizio si mettono insieme per cosa per evitare che Francia e Germania si rifacciano guerra per l'ennesima volta perché la storia dell'umanità in Europa la possiamo leggere come storie continue di guerra tra Francia e Germania io ho vissuto qualche anno della mia vita da ragazzino esattamente su quella frontiera perché mio padre insegnava all'università lì a Strasburgo e ci ha portato su qualche anno e ho visto quella frontiera la frontiera tra l'Alsazia e la Germania e ho conosciuto quella gente che mi raccontava com'era la sua storia la sua storia era che ogni vent'anni all'inizio del secolo e nell'ottocento si spostavano diventavano tedeschi poi tornavano francesi perché? perché quello sembrava essere lo scontro tra due paesi che dovevano combattersi a vicenda e milioni di francesi e milioni di tedeschi sono morti per fare cosa? per spostare una frontiera di 100 km da una parte o 100 km dall'altra milioni sono morti per questo a cosa è servita? Qual è stata l'idea dell'Europa all'inizio? Basta con questa cosa quindi l'idea una riconciliazione tra Europe che si erano fatte la guerra quindi l'inizio è così tutti insieme con la riconciliazione tra Europe quindi lo sguardo tutto interno lo sguardo al nostro interno qual è la seconda fase della storia europea? la seconda fase è quella che il grande evento la caduta del muro di Berlino finisce l'Europa dell'est il comunismo e l'Europa si riunifica stiamo parlando dell'89 del 90 e comincia che cosa? la riconciliazione prima vi ho detto la riconciliazione tra Francia e Germania adesso è una riconciliazione ancora più grossa le due metà di Europa che si erano combattute per 30 anni che si rimettono insieme e quindi l'allargamento l'ingresso di tutti i paesi dell'Europa centro-orientale nasce l'Unione Europea prima si chiamava comunità europea nasce l'Unione Europea si mettono tutti insieme ci mettiamo tutto insieme arriviamo a essere gli attuali membri dell'Unione Europea quanti siamo oggi oggi 8 febbraio la data conta febbraio del 2019 quanti sono i membri dell'Unione Europea sono 25 27 o 28 oggi chi dice 25 chi dice 27 chi dice 28 sono 28 sono 28 perché ancora la Gran Bretagna fa parte dell'Unione Europea il 29 marzo hanno deciso di uscire ma fa ancora parte dell'Unione Europea quindi siamo 28 quindi cos'è successo ai primi anni 90 questa unione che si chiamava comunità erano 6 all'inizio sono diventati 28 ma anche qui attenzione perché è lo stesso film un po' più grande del 57 cioè ci siamo messi insieme per una riconciliazione intra-europea noi europei c'eravamo fatti la guerra la guerra fredda in quel caso il muro di Berlino e tutto il resto ci rimettiamo insieme una riconciliazione intra-europea interna tra di noi l'occhio è tutto al nostro ombelico l'occhio è tutto all'Europa mi verrebbe da dire che in quelle due fasi il mondo non c'è in quelle due fasi il mondo non esiste nel senso che sono due fasi nelle quali tutto il ragionamento è tutto interno all'Europa e attenzione qui sta il grande cambiamento adesso arriva il cambiamento e il cambiamento riguarda le vostre vite perché voi siete la generazione la generazione dei ventenni di oggi che ha vissuto nei vent'anni di vita che voi avete vissuto il più grande cambiamento economico e demografico della storia dell'umanità non so cosa capiterà alle generazioni successive so cos'è capitato prima nessuno ha vissuto prima di voi quello che avete vissuto voi a voi sembra banale perché voi lo vivete giorno per giorno ma se alzate lo sguardo e vi guardate lungo la storia dell'umanità non c'è stato niente che è capitato come quello che è capitato nei vent'anni della vostra vita e lo dico entrando nel merito e dicendo quanto questo conta per la vicenda europea quanto questo conta per cambiare tutto il discorso sull'Europa ricordatevi sempre quello che ho detto tutta la fase iniziale dell'Europa e tutta l'Europa al suo interno la riconciliazione tra Francia e Germania la riconciliazione tra le due parti dell'Europa paesi che noi non conoscevamo nemmeno non ci potevamo nemmeno andare loro non potevano venire qua penso appunto alla Polonia l'Estonia pensate che oggi nell'Unione Europea ci sono tre paesi che stavano nell'Unione Sovietica prima Estonia Lituania e Ettonia tre paesi questi tre oggi sono come noi erano Unione Sovietica quelli che adesso hanno 50 anni in quei paesi da bambini hanno fatto scuola imparando il russo e studiando tutto ciò che e oggi stiamo insieme una cosa straordinaria quindi tutta la nostra fase fino a riconciliazione tra noi europei il mondo fuori non c'era attenzione qui è il punto cos'è successo nei vent'anni della vostra vita lo dico perché vi rendiate conto che avete vissuto fino adesso vent'anni straordinari nella storia dell'umanità intanto dal punto di vista economico il dato più impressionante probabilmente viene dalla Cina lo dico in un solo dato caricare troppe cifre d'annoia ricordatevi questa cifra se vi ricorderete questa cifra rimarrete sempre impressionati nei vent'anni della vostra vita la Cina ha tirato fuori dalla morte per fame 500 milioni di persone 500 milioni di persone sono tutti gli abitanti dell'Europa tutti gli abitanti dell'Europa la Cina era un continente la Cina è enorme ma la Cina vent'anni fa aveva mezzo milione di persone che erano in condizione di morte scusate mezzo miliardo di persone che erano in condizione di morte per fame in questi vent'anni sono state tirate fuori da questa condizione e questo non era mai capitato nella storia dell'umanità che in vent'anni accadesse una cosa simile ma c'è qualcosa di più ho parlato della Cina estendo il discorso all'Asia negli anni 80 quando io ero all'università l'Asia tutta insieme l'Asia qui riprendo un po' il discorso che vi ha fatto Paolo Magri prima tutta l'Asia negli anni 80 valeva il 15% della ricchezza mondiale immaginatevi cos'è questa cosa tutta l'Asia Giappone India Cina tutto valeva il 15% della ricchezza mondiale questo 30 anni fa fra 30 anni tutta l'Asia varrà il 50% della ricchezza mondiale è una cosa impressionante non è mai successo nella storia dell'umanità un tale cambiamento il mondo va verso l'Asia il mondo va verso Est e questo cambiamento è impressionante qualcuno lo aveva anche previsto tra l'altro c'è una parola nelle memorie di Napoleone che diceva quando i cinesi si sveglieranno il mondo cambierà perché i cinesi dormivano i cinesi dormivano per un fatto storico molto preciso ed è abbastanza impressionante i cinesi hanno inventato prima di noi tutte le cose che noi diciamo di aver inventato noi la stampa la stampa Gutenberg l'ha inventata ma i cinesi l'avevano inventata prima la polvere da sparo noi diciamo di averla inventata l'avevano inventata loro prima di noi ma poi cos'è successo in Cina è successo che a un certo punto della loro storia subito dopo che noi abbiamo inventato nel 1400 la stampa poi dopo la polvere da sparo le grandi scoperte da noi queste scoperte le abbiamo gestite le abbiamo messe in campo con l'idea di aprirci loro hanno avuto paura e si sono chiusi la Cina si è chiusa in quel periodo ed è rimasta chiusa per 500 anni e questa chiusura l'ha portata a deperire perché quando ti chiudi deperisci quando ti apri vinci l'Europa nel 500 si apre scopre il mondo usa la stampa come fallore positivo la stampa dei libri e l'Europa vince domina il mondo e diventa il continente delle grandi scoperte la Cina si chiude dopo aver fatto tutte quelle scoperte ha paura politicamente di tutti questi cambiamenti e si chiude e che cosa succede torno alla Cina è che la Cina invece si è aperta adesso negli anni 80 e 90 la Cina ha deciso di aprirsi e guardate che cosa sta succedendo il mondo si sta sviluppando tutto lì e la quantità di persone che lì ci sono miliardo e più di persone fa sì che questo cambiamento sia moltiplicato perché questo cambiamento viene moltiplicato adesso e non prima ma sostanzialmente per via di questo mi direte cosa c'entra lo smartphone c'entra questo qual è la vera invenzione epocale che sta qui dentro e il vero che è il cambiamento che sta qui dentro questo ha la stessa forza del cambiamento che nel 1400 Gutenberg secondo me è paragonabile quale fu il cambiamento di Gutenberg i libri prima si facevano ma si facevano uno per uno li facevano i monaci nei monasteri uno per uno e quindi per fare un libro ci voleva talmente tanto e quei libri rimanevano nei monasteri per secoli sono stati fondamentali per trasmettere il sapere i classici ma stavano lì e ce n'era uno solo la stampa Gutenberg rende possibile la diffusione di quel sapere a tutti e pensate cosa succede dopo l'invenzione della stampa è un tale acceleratore di cambiamenti che pensate al mondo alla religione cattolica scatta di tutto la riforma la controriforma tutto succede dopo l'invenzione della stampa la diffusione quindi un'invenzione tecnica provoca dei grandissimi cambiamenti di quel tipo lì allora perché paragono questo a quello perché questo qui ha lo stesso effetto questo qui fa sì che questo che è un computer portatile che sta nelle nostre tasche questo è più potente del computer che a Cape Canaveral anni fa ha mandato l'uomo sulla luna è più potente ed è minuscolo quello allora era grande stava forse in una stanza come questa qua questo è piccolissimo sta nelle tasche di ognuno di noi e se sta nelle tasche di ognuno di noi vuol dire che può stare nelle tasche di ogni cinese e siccome i cinesi sono più di un miliardo questo è un diffusore di moltiplicazione di opportunità che più sei e più ovviamente questa moltiplicazione da a un paese possibilità ricchezza successo se ce l'hanno tutti nelle tasche e se è possibile utilizzarlo questo è il motivo per cui l'India che è molto più popolata di noi la Cina che è molto più popolata di noi stanno crescendo e cresceranno sempre di più e allora l'Europa e vengo quindi alla terza fase ripeto le prime due fasi la nascita negli anni 50 per riconciliare francesi e tedeschi dopo tutte le guerre la seconda fase dopo il muro di Berlino per riconciliare l'est e l'ovest dell'Europa che avevano fatto il muro di Berlino la guerra fredda e tutto il resto tutto interno tutto a guardarci l'ombelico tutto noi europei perché il resto del mondo non c'era il resto del mondo non c'era c'era nella carta geografica ma non aveva nessun ruolo la Cina sapete quanto pesava in quegli anni il 2% dell'economia mondiale 2% poco per la grandezza di quella che è un continente allora adesso siamo entrati nella terza fase della storia europea e perché questa terza fase è così difficile controversa complicata perché questa terza fase non è l'Europa al suo interno l'Europa che si guarda dentro è l'Europa e il resto del mondo e questo è il punto essenziale sul quale io vi invito a riflettere sul quale vorrei dialogare con voi perché dico l'Europa nel mondo perché il mondo prima non c'era era geograficamente importante ma dal punto di vista economico tutto il peso economico del mondo eravamo noi europei gli americani e i giapponesi punto queste tre parti del mondo insieme facevano l'85% l'82% della ricchezza mondiale oggi è completamente cambiato tutto se andate in Asia se andate in Asia e vedete fisicamente cosa sta succedendo in Asia e rimanete esterrefatti da quello che sta capitando in Asia vi faccio un esempio per dire che quello che sta capitando ci interroga ci interessa qualcuno di voi ha la Vespa? nessuno nessuno c'è la Vespa? vabbè io c'avevo la Vespa la Vespa della Piaggio è uno dei prodotti simboli del Made in Italy e la Vespa come tutti i motorini è stata aggredita dalla concorrenza giapponese chi di voi ha un motorino giapponese? ma non avete motorini proprio? che motorini avete? i giapponesi ci hanno fatto concorrenza e hanno vinto sui motorini perché li fanno a prezzi più bassi la Vespa era in grande difficoltà dieci anni fa grandissima difficoltà e stava quasi per chiudere addirittura perché i costi di produzione erano tali che fare la Vespa in Europa con i costi di produzione della Vespa in Europa non reggeva più toccava venderla a dei prezzi tali che nessuno la comprava hanno deciso di fare una cosa hanno detto vediamo se visto che la Vespa è un simbolo se in Asia gli piace comprare la Vespa e hanno deciso di fare una fabbrica prima in Vietnam ad Hanoi e hanno cominciato a fare la fabbrica e a vendere la Vespa in Vietnam dove oggi se girate per le strade di Oce Min City di Hanoi vedete pieno di Vespe perché? perché la Vespa è bella è elegante e perché in quei paesi sta crescendo una classe media che può permettersi di comprare la Vespa e che vuole comprare la Vespa perché la Vespa è figa la Vespa è bella la Vespa è glamour e grazie a questa operazione la Piaggio riesce oggi a essere forte e riesce oggi a essere ancora presente da noi grazie ai successi che fa lì tutto questo per dire che l'Asia questo sviluppo è fondamentale se noi siamo in grado di esserci se noi siamo in grado di giocarlo e di giocarlo fino in fondo con i nostri prodotti e allora la sfida dell'Europa oggi qual è? la sfida dell'Europa è quella di dirci ma perché dobbiamo stare insieme noi europei? francesi tedeschi siamo diversi perché dobbiamo stare insieme? e alla fine la risposta sta in quel ragionamento che vi ho fatto adesso la terza fase il mondo quando abbiamo fatto l'Europa il mondo era molto piccolo e l'Europa e i paesi europei erano molto grandi adesso che noi facciamo e abbiamo l'Europa l'Europa ha senso perché il mondo molto più grande è molto diverso rispetto a noi e noi stando con l'Unione Europea siamo in grado su molti delle modalità con le quali noi viviamo di poter far sì che questo modo di vivere europeo diventi un modo di vivere influente nel mondo di domani nonostante la nostra dimensione piccola vi faccio degli esempi che dimostrano spero perché vivere a Roma vivere a Bordeaux vivere a Stoccarda vivere a Barcellona vivere a Salonico è differente per via della lingua ma per il resto sono a casa Roma come sono a casa Salonico come sono a casa Stoccarda non c'è una differenza nel modo di vivere nel fondamentale modo di vivere sì si mangia molto meglio a Roma e questo siamo d'accordo tutti qual è la differenza e qual è la differenza con molte altre parti del mondo la differenza è basata sui valori che stanno alla base del nostro modo di vivere e io qui faccio un discorso di orgoglio europeo e italiano per dire che io penso che nonostante che il resto del mondo cresca tanto io apprezzo tantissimo quello che fanno tanti altri paesi ma io penso che il nostro modello europeo sia il modello migliore al mondo e noi dobbiamo difenderlo svilupparlo e non dobbiamo buttarlo via perché oggi stiamo rischiando di buttarlo via provo a raccontarvi in tre parole che cosa vuol dire per me il modello di vita europeo il modello di vita europeo innanzitutto vuol dire il rispetto della persona davanti a tutto la persona in tutti i suoi aspetti e allora cominciamo a dire la cosa più banale che per noi e che voi che siete qui è scontata ma un terzo del mondo non è scontata la parità tra uomo e donna noi ci siamo arrivati non era così in Italia non era così in Italia fino a pochi anni fa non molti anni fa non era così e anzi dovremmo ancora fare passi avanti ma la parità tra uomo e donna è una cosa che per noi è scontata un terzo del mondo non vive in una parità tra uomo e donna non è così siamo andati in tanti paesi del mondo non c'è parità tra uomo e donna tutt'altro la donna è sottomessa all'uomo punto quando parlo di rispetto della persona parlo di tante altre cose parlo di rispetto della persona come lavoratore per esempio qui da noi si può discutere c'è chi vuole certe leggi in un modo certe leggi in un altro la confindustria la pensa in un modo la cgl nell'altro ma complessivamente da noi e in Europa il lavoratore ha dei diritti che sono inalienabili se voi quando voi diventerete lavoratori spero il più presto possibile avrete nel momento in quale entrerete al lavoro dei diritti che nessuno potrà calpestare se ve li calpesteranno potrete andare da un giudice che vi darà ragione se ci sarà se voi sarete donna avrete un posto di lavoro e il giorno dopo che avrete detto al vostro capo aspetto un bambino e quindi mi prendo il congedo per i prossimi mesi e il vostro capo vi avrà licenziato per questo motivo perché dirà non me ne frega niente se aspetti un bambino per me è un argomento che non esiste voi andrete da un giudice e il giudice darà torto al vostro capo è un esempio potrei fare tanti altri esempi di cosa vuol dire diritti dei lavoratori in Europa un terzo del mondo e forse di più questi diritti non esistono nel senso che il lavoro è un'altra cosa il lavoro è cioè chi vi dà il lavoro e chi vi dà il lavoro comanda su tutto senza che esistano questi diritti minimi quando dico rispetto della persona vale per tanti altri aspetti vale per esempio per il tema del rispetto della persona anche quando questa persona è un detenuto è uno dei principi fondamentali della cultura giuridica europea sei un detenuto hai avuto una colpa nei confronti della società ma sei una persona non è perché sei un detenuto che sei una persona che ha perso tutti i suoi diritti per esempio in Europa è l'unico continente al mondo dove non esiste la pena di morte non è un aspetto secondario questo in Europa non puoi essere messo in galera prima di un giudizio esiste il caso eccezionale della carcerazione preventiva per evitare che succedano delle cose ma non esiste la carcerazione priva di un giudizio di un giudizio definitivo con tutti i diritti per il per colui che è sotto giudizio vi dico tutte cose che probabilmente a voi non interessano vi dici io non sono detenuto non sto lavorando non ma immaginatevi in ognuna di queste circostanze immaginatevi europeo o immaginatevi non europeo oltre a questo tema della persona la centralità della persona c'è tutta una serie di altre cose che noi in Europa viviamo in un modo e nel resto del mondo non si vive come da noi stamani quando uscirete adesso vedrete il sole vedrete un clima bellissimo noi ce la prendiamo sempre con Roma dove siamo l'Italia eccetera ma il clima che c'è da noi non c'è da nessun'altra parte del mondo noi quel clima non vogliamo che ce lo distruggano noi dobbiamo lasciare ai nostri figli il clima che noi abbiamo vissuto ma il clima sta cambiando e perché sta cambiando perché stiamo consumando troppa energia e perché stiamo consumando troppa energia da materia carbone fossile e questo sta creando delle emissioni che stanno cambiando il clima e il clima sta cambiando davanti ai nostri occhi perché dico qui l'Europa per un motivo molto semplice vi ho parlato tanto bene della Cina prima potrei parlare di tanto bene degli Stati Uniti ma io non so voi vorrei che i miei figli crescessero in un mondo in cui le regole del rispetto dell'ambiente sono fatte dagli europei non sono le regole dei cinesi e fatemi dire anche non sono nemmeno le regole del signor Trump che sul tema dell'ambiente ha spiegato che il cambiamento climatico è un'invenzione semplicemente della gente che vuole abbattere la competitività delle industrie americane e se voi andate a Pechino dovete girare con la mascherina io vorrei che noi europei fossimo forti uniti per imporre al mondo le regole sulla protezione dell'ambiente che abbiamo noi in Europa e questo so essere per voi uno degli argomenti principali anzi vi invito a essere ancora più rivoluzionari di quanto siete normalmente su questo i vostri colleghi del Belgio ogni giovedì pomeriggio ogni giovedì pomeriggio i ragazzi che vanno a scuola e all'università a Bruxelles si ritrovano alle 4 del pomeriggio in una delle piazze principali di Bruxelles per un'ora senza nessuna attività violenta di nessun tipo per protestare nei confronti degli adulti dicendo noi in quel mondo fra 30 anni ci saremo forse voi non ci sarete e non ve ne frega niente ma noi ci saremo e noi vogliamo che oggi applichiate delle regole che proteggano l'ambiente fra 30 anni e lo fanno è la cosa che a me piace di più questi ragazzi di Bruxelles lo fanno il giovedì pomeriggio alle 4 quando sanno che a loro costa qualcosa passare un'ora sulla piazza perché hanno tutti lezione hanno da fare una cosa un'altra che non possono fare perché vanno sulla piazza qui non lo fanno di sabato quando tutto sommato invece del tempo libero fa una scampagnata no gli costa qualche cosa farlo perché devono poi recuperarla quella lezione in un altro momento e lo fanno per dare un messaggio e una lezione agli adulti che io trovo fantastica fondamentale e qui l'importanza dell'Europa noi europei siamo quelli che hanno le regole le più avanzate al mondo e aggiungo quando qualcuno vi dice ma cosa serve l'Europa quanti ve l'avranno detto e quante volte anche a voi vi sarà scattato di dire ma a che serve questa Europa ecco vi do un argomento molto semplice molto semplice non esiste nel nostro diritto italiano regola di protezione dell'ambiente che non derivi dall'applicazione di un obbligo europeo la giro in un altro modo se non fossimo parte dell'Unione Europea noi avremmo probabilmente le regole dei gas di scarico delle macchine come ce l'hanno al Cairo con tutto il rispetto per il Cairo tutte le regole che noi abbiamo in materia di protezione dell'ambiente ci derivano da un obbligo comunitario perché questo perché non è semplice è faticoso costa mettere una regola di protezione dell'ambiente costa devi cambiare il parco autobus devi cambiare il parco macchine tutte operazioni che costano devi mettere pannelli solari devi mettere tutte cose che costano tutti obblighi europei l'Europa ci ha obbligato a fare una cosa positiva un po' come un genitore che guarda lungo e che al figlio devi fare questo ma non ho voglia di farlo non ho i soldi per farlo lo devi fare quante volte i vostri genitori vi dicono cose che voi li mandereste a quel paese e invece dovete farle ed è giusto farle perché vi serve e questo è l'esempio un piccolo esempio l'Europa l'ambiente tutto ciò che stiamo facendo per proteggere l'ambiente è grazie all'Europa potrei farvi tanti altri esempi su che cosa vuol dire essere europei e sul perché ci troviamo a casa in ogni altro paese europeo non sto dicendo poi che non ci sono differenze però quando mi si dice ma siamo diversi certo che siamo diversi ma perché tra siciliani e veneti siamo uguali ma vi aggiungerò io sono toscano tra pisani e fiorentini siamo uguali no siamo meglio noi pisani piuttosto dei fiorentini ed è così dovunque ed è così dovunque esistono le differenze esistono all'interno dei nostri paesi ed esistono anche in Europa ma quello che conta è questo elemento comune questi fatti che ci accomunano ho citato questi aspetti del clima dei diritti dei lavoratori ma vi cito un altro aspetto piccolo vi sembrerà ma come ci viene a parlare del formaggio a parte che a quest'ora parlare di formaggio rischia di generare appetito ma pensate la differenza tra noi europei e i cinesi e gli americani da noi il parmigiano perché si chiama parmigiano perché è fatto a Parma no perché per noi il parmigiano si può fare solo a Parma perché viviamo in una terra nella quale prima di noi ci sono state generazioni e generazioni per secoli e secoli e il parmigiano così come qualunque altro prodotto tipico che sia il vino che sia l'aceto balsamico che sia tutte le forme di legumi che si fanno dalle nostre parti tutto tutto ha una storia e questa storia fa sì che quel prodotto è fatto in un certo modo e non è replicabile in qualunque parte del mondo io vi racconto un episodio per farvi fare un sorriso però per dirvi che quello che vi sto raccontando non è una roba astrusa perché poi ci sono gli interessi dietro il nostro parmigiano è una parte importantissima del nostro prodotto e se negli Stati Uniti o in Cina fanno il parmesan e lo chiamano parmesan ma lo fanno nell'Illinois se lo vendono lì è per noi un problema quello o se in Cina lo fanno chiamandolo non so come è sempre però richiamando parmigiano è un problema e non si può non si può copiare e questo vale per noi italiani ma vale per tutti i paesi europei non è che puoi fare il vino che lo chiami Porto e lo fai in Corea e lo vendi in tutto il mondo e lo chiami Porto non si può perché il vino Porto si fa a Porto perché per secoli l'hanno fatto lì ed è la specificità della nostra storia perché in quel vino non c'è soltanto un modo di farlo una ricetta che la fai dovunque uguale è tutta una storia dietro che ha portato a far sì che diventasse così vale per il nostro parmigiano vale per tutto la piccola storia che vi racconto per farvi ridere perché a me fece molto ridere quell'episodio quando ero presidente del consiglio andai alla Casa Bianca a discutere a dibattere con il presidente di allora che era molto meglio del presidente di oggi andai a discutere di come riuscire a negoziare insieme un accordo commerciale per il quale gli americani sono molto diversi da noi a noi ci piace gli Stati Uniti ci piace andare negli Stati Uniti gli americani ci piacciono ma sono diversi da noi per esempio su questo aspetto c'è una grandissima differenza in America è pieno se andate in qualunque alimentare in qualunque supermercato trovate pieno di parmesan che si chiama parmesan fatto nell'Illinois o fatto Richmond in Virginia ed è un problema questo qua perché fa schifo per il nostro gusto però lo vendono con quel nome e fa concorrenza sleale al nostro parmigiano e non va bene e non va bene quindi noi dobbiamo combatterla questa cosa ma noi così come tutti gli altri i francesi hanno 300 formaggi anche loro noi ce ne abbiamo un sacco di altri pensate al nostro prosciutto di Parma se tu dai un Parma Ham in giro che si chiama Parma Ham e però è fatto in California e non va bene quando andai alla Casa Bianca a discutere di queste cose stavo cercando di convincere Obama guarda che per noi italiani per noi europei la questione della indicazione geografica protetta cioè il fatto che si chiama così non è soltanto una questione commerciale è legata alla nostra storia e per noi una produzione gastronomica per l'appunto ha una storia non è una cosa soltanto che gli metti un brand e lo lanci nel mercato e hai fatto c'è perché perché noi abbiamo una storia che voi non avete adesso non glielo ho detta così ma alla fine è così e noi siamo assolutamente orgogliosi di questa storia che sta dentro quel prodotto che sta dentro quel prodotto e nel spiegare tutte queste cose alla fine mi dice ma ho capito mi hai convinto non avevo colto tutti questi aspetti legati alla storia gli ho spiegato proprio la storia del parmigiano e io tutto contento e dice benissimo adesso che abbiamo siamo d'accordo su questo andiamo a tavola ti offro da pranzo e ci muoviamo nella l'altra sala della Casa Bianca dove c'era il eravamo sei a tavola ci sediamo a tavola io prendo c'era piccolo scritto il menù del pranzo che avremmo avuto e questo pranzo cominciava con a rucola and parmesan e quindi lo guardo subito tutti a ridere arriva lo chef che non aveva seguito la nostra conversazione di prima e dice a me in inglese presidente visto che lei è venuto qua in suo onore le facciamo provare il parmesan che produciamo noi qui in Illinois e ho avuto per me è stata fantastica perché ho avuto la possibilità di dire Obama ti rendi conto che questa è una cosa che così dimostra che c'è un problema culturale sul quale dobbiamo e è un problema profondissimo perché poi alla fine quell'accordo commerciale purtroppo non si è fatto e quindi ancora oggi voi trovate il parmesan dell'Illinois dovunque venduto negli Stati Uniti piccolo esempio di che cosa vuol dire per noi europei questo modo di essere è evidente che attorno a tutti questi temi vado a terminare perché voglio ascoltare le vostre domande voglio che discutiamo insieme su tutte queste cose però è evidente che su tutti questi temi su tutte queste cose noi europei abbiamo una grande responsabilità ed è una responsabilità che ci deriva dall'essere insieme dalla storia che abbiamo dietro di noi dalla cultura che abbiamo dietro di noi dal fatto di essere la potenza culturale del mondo e dal fatto che insieme siamo in grado di aiutare il resto del mondo a capire l'importanza di questi valori non sto dicendo che l'Europa è tutta perfetta tante volte questi valori noi non li applichiamo non li diamo per scontati sono sicuro che molte delle cose che vi ho detto vi sembreranno scontate perché fanno parte come l'ossigeno che noi respiriamo ma sono la nostra cultura i nostri nonni e i nonni dei nostri nonni sono morti perché questi valori fossero valori applicati alla nostra vita di oggi perché la nostra Europa è stata sotto il tallone del totalitarismo e del nazifascismo ed è stato così e quello avrebbe distrutto quei valori i valori della democrazia i valori della libertà oggi ce li abbiamo e noi dobbiamo portarli nel resto del mondo non imporli ma dobbiamo far sì che siano in un mondo nel quale oggi quei valori non sono più così popolari quindi io quello che vorrei provare a trasmettere quello che spero di avervi trasmesso è che voi avete vissuto fino adesso vent'anni della più grande trasformazione della storia che l'Europa di oggi non è l'Europa degli inizi e nemmeno l'Europa che ho conosciuto io quando avevo la vostra età e che l'Europa di oggi vive in un mondo nel quale essere uniti ci consente di essere rilevanti l'Italia da sola nel mondo di domani non sarà in grado di essere influente quanto era influente l'Italia da sola decenni fa la stessa cosa vale per i francesi e vale per i tedeschi e questo è il motivo per cui io penso che Brexit sia un suicidio per gli inglesi Brexit per gli inglesi è un suicidio perché loro non erano allora come sono oggi allora erano molto più grandi rispetto a un mondo che era diverso pensate è l'ultima cosa che dico tutto il ragionamento che sto facendo dovete partire dall'idea che quando io sono nato il mondo era fatto di 3 miliardi di persone quando la mia generazione lascerà questa terra nel 2050 mediamente io spero anche più in là il mondo sarà fatto di 10 miliardi di persone 3 miliardi 10 miliardi sta tutto qui e c'è una differenza di fondo che noi europei eravamo all'incirca 500 milioni quando eravamo 3 miliardi e saremo gli stessi 500 milioni quando saremo 10 miliardi cioè noi europei siamo quella roba lì non cresciamo demograficamente non facciamo figli siamo su un territorio piccolo relativamente piccolo il resto del mondo cresce a dismisura eravamo 500 milioni su 3 miliardi quanto fa? fa quasi il 20% saremo 500 milioni su 10 miliardi fa il 5% una cosa piccola una cosa piccola il che vuol dire che ogni singolo paese europeo che prima da solo aveva un peso nel mondo di domani di 10 miliardi sarà una cosa molto piccola ecco perché stare insieme è così fondamentale ecco perché stare insieme vuol dire sviluppare opportunità per tanti di voi voi avete opportunità che nessuno di noi ha mai avuto avete l'opportunità di studiare in un altro paese europeo avete possibilità di viaggiare facilmente grazie all'Europa io quando ero giovane alla vostra età l'Europa non era ancora così sviluppata grazie all'Unione Europea oggi ci sono i voli low cost che vi consentono di volare a 39 euro costa di più andare in aeroporto che prendere l'aereo io quando dovevo alla vostra età pensavo di fare la tesi di laurea dovevo andare a Bruxelles mi costava uno sproposito perché c'era il monopolio nazionale delle compagnie di bandiera l'Unione Europea ha imposto questa opportunità per tutti non c'era l'Erasmus oggi c'è l'Erasmus se avessi la bacchetta magica sapete cosa farei farei l'Erasmus obbligatorio per i studenti delle scuole medie superiore 16 anni pagato dall'Europa la possibilità per voi di fare tre mesi quattro mesi in un altro liceo in un altro istituto tecnico in un altro paese a imparare la lingua in quel paese insieme ai vostri compagni tornare indietro avendo fatto questa esperienza pagato dall'Europa così come capita per l'Erasmus e forse anche meglio la possibilità di fare un'esperienza fuori con la bandiera delle 12 stelle che vi consente di farla e capire nella vostra vita che vivere a Stoccarda o vivere a Siviglia è come vivere qua è meglio vivere qua ma è assolutamente uguale e questa esperienza vi fa capire soprattutto che non è un nemico quello che vive lì accanto è una persona come noi e se è una persona come noi capiamo qual è la grande forza dell'Europa è l'ultima parola che vi dico però mi piacerebbe che questa vi rimanesse per la vita non so che chiedo troppo ma se mi si chiedesse dimmi in una parola qual è la forza dell'Europa qual è la forza storica dell'Europa perché è così bello essere in Europa io ve la direi in questa parola perché l'Europa è l'unica l'unico esperimento al mondo di unione tra sole minoranze mi sombrerà complesso questo concetto è fondamentale in Europa siamo tutte minoranze noi italiani siamo minoranza i francesi sono minoranza i tedeschi sono minoranza gli slovacchi sono minoranza siamo tutti minoranze nel resto del mondo c'è sempre una maggioranza che ingloba delle minoranze o una maggioranza che costruisce un meccanismo per rispettare delle minoranze noi siamo tutte minoranze il che vuol dire che cresciamo con la logica del rispetto della tolleranza come elemento fondamentale in un mondo di 10 miliardi di persone vince chi nasce e cresce con la logica del rispetto della tolleranza dentro di sé e sono convinto che questa logica europea per noi sarà fondamentale anche dopo grazie ringraziamo ringrazio personalmente il presidente Letta e se ci fossero delle domande questo è il momento di rivolgere le domande quella ragazza lì per esempio la no 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 prego salve lei ha sottolineato i valori dell'Europa ma nel dibattito nazionale capita spesso che l'Europa sia ritenuta a causa di tutti i mali in che termine andrebbe recuperata una visione europeista che però non si basa esclusivamente su una retorica utilitaristica nel senso facciamo sì l'Europa ma perché ci conviene grazie rispondo con una battuta secca quando voi sentite qualche politico che vi dice questa cosa non si può fare perché è colpa dell'Europa ricordatevi quello che vi dico adesso quello lì vi sta mentendo 99% dei casi è lui che dovrebbe dirvi il politico questa cosa non si può fare siccome non vi vuol dire non si può fare vi dice non si può fare perché è colpa dell'Europa perché l'Europa cattiva non vuole normalmente quando si dice così non si può fare questa cosa perché l'Europa non vuole è semplicemente perché per esempio ci sono dei limiti di bilancio ma i limiti di bilancio sono una cosa che riguarda l'Europa o sono una roba che riguarda noi se il rettore della vostra università al quale o il preside della vostra scuola voi andate lì e gli dite vogliamo la nuova palestra e noi facciamo la nuova palestra e il preside o il rettore dell'università vi possono dire vediamo se e come costruire in bilancio un percorso con dei prestiti delle cose che riesca a reggere e si possa avere fra qualche anno la palestra oppure vi dice ci abbiamo provato non ci sono i soldi non si può ma non è che vi dice non si può perché il presidente della repubblica ha detto che non si può perché è una frase che non ha senso questa le cose si possono o non si possono fare a seconda delle risorse che uno ha a disposizione per farle e se ci sono e se c'è la scelta la volontà di farle si fanno se no non si fanno non è che c'è uno sopra che ti dice non si può c'è uno sopra che semplicemente ti ricorda guarda che non puoi fare debiti perché se fai debiti poi li pagano le future generazioni e quello che è successo e succede normalmente nella vita politica è questo voi ascolterete un sacco di gente che vi dice questa cosa è colpa dell'Europa perché? perché è facilissimo lo fanno guardate non è solo uno sport italiano lo fanno in tutti i paesi è colpa è colpa dell'Europa è colpa che non fa fare questo non fa fare quest'altro il tema di fondo è che le cose volendo si possono fare uno le deve voler fare le deve organizzare per bene e quindi ci riesce in questo senso quello che manca in Italia sono voci che smontino questa retorica se ci pensate bene questa cosa è colpa dell'Europa si unisce a una seconda cosa che è l'altro messaggio terribile che circola in modo subdolo o in modo più forte è colpa dell'Europa ed è colpa dei migranti che è l'altra cosa che voi sentite sempre più spesso arrivano troppi migranti ma andiamoli via perché se no ci tolgono il lavoro costano troppo e noi stiamo peggio non c'entra niente l'arrivo dei migranti con la disoccupazione italiana anzi per certi versi è anche proprio l'opposto ma è facile prendersela con dei soggetti più deboli i migranti oppure è facile prendersela con un soggetto l'Europa che è talmente vasto e generico che alla fine te la prendi con una entità che non può nemmeno rispondere e in questo senso io vi invito ogni volta a riflettere quando sentite una cosa di questo genere e comunque quando sentirete una cosa di questo genere cominciate ad avere un pregiudizio negativo nei confronti di chi la dice perché se uno dice questa cosa oltretutto senza nemmeno spiegarla è colpa dell'Europa se non si può fare questo normalmente vi vuole infinocchiare normalmente vuole dire una cosa senza e normalmente non vi vuole dire non si può fare per questo questo motivo non perché l'Europa non vuole perché abbiamo fatto troppi debiti per farne altre di cose ed è la logica sempre la stessa di fare le cose con l'equilibrio e non di dire sempre di sì nella mia esperienza quando dico ho imparato io ho imparato una cosa i politici non si giudicano per i tanti sì che dicono se voi troverete nella vostra vita un politico che vi dirà tanti sì quello non è un buon politico il buon politico si giudica per i tanti no che dice non per i tanti sì che dice perché il politico che dice sì a tutti è il politico che prende in giro tutti alla fine il politico a cui sentirete dire dei no e li motiva no per questo motivo quello è il buon politico probabilmente sta a tutti noi far crescere una cultura dentro di noi per poter far sì che apprezziamo la persona che ci dice di no e ci motiva i no e non la persona che prendendoci in giro dice sì sì tanto poi non si fa ma intanto non ti ricordi che è colpa mia che non si è fatto sì c'è un'altra domanda prego sì salve allora io volevo chiederle diciamo in un precedente incontro è venuta un'altra persona che ci ha detto che un grande problema dell'Italia è la burocrazia e non è mai stato fatto nulla per la burocrazia lei è vero è stato presidente per il consiglio per poco tempo per soltanto un anno però volevo chiederle diciamo ho lasciato la notifica da leggere qual è il grande problema perché non si alleggerisce questa burocrazia che potrebbe dare diciamo grandi frutti grazie dunque ha ragione nel senso che alleggerire il nostro paese dal peso burocratico è sicuramente un problema è un obiettivo nazionale questo vale per l'Italia vale per tutti gli altri paesi europei vale per la stessa Unione Europea che è accusata di eccesso di burocrazia io sarei un pochino più preciso non è vero che non è stato fatto niente se io guardo la modalità con cui oggi per esempio si compila la dichiarazione dei redditi e se io mi ricordo io mi ricordo sempre questa scena io che avevo 10-12 anni e nel periodo quando è che si fa la dichiarazione dei redditi maggio nel periodo di maggio nella stanza nello studio di mio padre nella stanza accanto sentivo mio padre persona sempre calmissima e tranquilla inveire letteralmente inveire perché impazziva dietro alla compilazione cartacea della dichiarazione dei redditi oggi non è più così nel senso che oggi comunque è un piccolo esempio di come tanti cambiamenti ci sono oggi ci sono tanti cambiamenti positivi che sono avvenuti il problema di fondo sono alcune dimensioni e alcune cose che non funzionano per esempio se vivete in un piccolo comune mediamente avete dei servizi che funzionano dei servizi di anagrafe dei servizi del comune che funzionano molto meglio di quanto funzioni in un comune gigantesco e non faccio nessun riferimento a comuni giganteschi che conosciamo il tema di fondo è proprio questo qua il fatto che alcuni passi avanti ci sono molti di questi passi avanti sono legati a internet naturalmente alla digitalizzazione ma la burocrazia è complessa perché in Italia provo a fare un ragionamento che è un passo in più perché potrete cavarmela dicendo bisogna fare di più non si fa abbastanza è un problema perché in Italia è un problema maggiore che da altre parti qui c'entra qualcosa con lo spirito civico perché in Italia la tendenza a fare fesso il prossimo è una tendenza diciamo elevata adesso non faccio paragone con altri paesi ma esiste una tentazione di fare i furbi esiste in tutti gli ambiti della nostra vita la scorciatoia cosa c'entra con la burocrazia? c'entra perché se hai l'impressione o se hai lo storico del fatto che il tuo interlocutore cerca di fare il furbo devi metterci una quantità di burocrazia in più per verificare che non faccia il furbo e questo ovviamente rende più complicato il tutto a coloro che non fanno i furbi quindi il tema uno dei temi forti del nostro paese è quello di riuscire a far passare l'idea che viene valorizzato e premiato il comportamento virtuoso perché se è così siamo tutti spinti al comportamento è la logica delle file per capirci da noi la fila spesso e volentieri è una rissa non è una fila tutti addosso perché si cerca di se fossimo tutti in fila la fila scorrerebbe la fila non scorre perché è una rissa non è una fila ma questo ha a che vedere con lo spirito civico delle persone con l'educazione con l'impegno di uno di noi in questo senso tutto quello che state facendo in questo straordinario percorso di prepararsi al futuro è credo anche legato a far crescere questo spirito civico c'è un'ultima domanda grazie lei ha parlato delle fasi dell'unione europea una di queste fasi nel futuro potrebbe essere la nascita di un vero e proprio stato europeo tipo gli Stati Uniti in America bella domanda però la mia risposta la stupirà nel senso che io sono profondamente europeista come si sarà capito da quello che vi ho detto ma io non credo che l'Europa sarà mai un super stato unico aggiungo io non vorrei che l'Europa fosse un super stato unico per un motivo molto semplice per i motivi che ho citato prima legati alla storia che abbiamo dietro le spalle ciò che rende noi europei diversi dagli altri e dobbiamo esserne orgogliosi è la storia che abbiamo e questa storia fa sì che dobbiamo convivere e far convivere il nostro essere italiani e il nostro essere europei devono i tedeschi far convivere il loro essere tedeschi e il loro essere europei non dobbiamo immaginare che l'una delle due cose annulli l'altra e questo glielo dico per una cosa molto semplice non perché è semplice e bello da dire ma perché questa è la chiave vincente per il futuro mi spiego le vostre vite hanno una differenza di fondo con le vite della mia generazione o delle generazioni precedenti chiedete ai vostri nonni chiedete ai vostri genitori voi vivete delle vite nelle quali siete pluri identità avete suggestioni rapporti relazioni che fanno sì che voi non possiate definirvi con una sola parola siete di identità molteplici avete tante relazioni complesse relazioni intellettuali di tipo fate tante esperienze molto più di quanto si faceva prima perché la vita oggi grazie soprattutto al digitale vi porta a vivere questa molteplicità di relazioni faccio un solo esempio che è il più semplice di tutti la differenza tra me e mio figlio tra i miei tre figli tra le tante differenze una io lo vedo loro non riescono a fare una cosa alla volta io non so voi come siete messi su questa cosa qua ma io tendenzialmente quando faccio una cosa faccio quella cosa lì vedo i miei figli che hanno 12-14 anni che non riescono a fare una cosa alla volta devono fare sempre due tre quattro cose insieme contemporaneamente ascoltano musica studiano e rispondono su whatsapp all'amico su un altro tema io quando li guardo dico è un'evoluzione della specie questa non so Piero cosa ne pensa ma è una vera e propria evoluzione della specie cioè noi siamo tarati geneticamente a fare una cosa voi e quelli più giovani di voi ancora di più siete tarati a farne tante insieme cosa vuol dire questo sulla domanda che lei mi ha fatto Stato Europa Italia vuol dire questo voi siete tarati a vivere pluri identità a vivere pluri identità questo cosa vuol dire che l'idea di Europa è la cosa più moderna che ci sia perché l'Europa ti consente di essere europeo italiano laziale di frascati di Roma credo che sia una cosa fantastica questa a me questa cosa qui mi sembra la cosa più moderna e più bella che ci sia avere insieme questa molteplicità molteplicità di identità che mi consente di non fermare la mia identità a dire io sono italiano io sono tedesco no è una cosa che dà conto di cosa siamo e siamo tante cose insieme perché la vita ci consente di essere tante cose insieme e secondo me questa è una delle grandi forze dell'Europa soprattutto rispetto alla oggi aggressività con cui tanti pensano che semplicemente la bandiera del nazionalismo ti dà più forza e ti consente di essere più orgoglioso di te stesso senza sapere che non è così non è così perché ormai siamo tutti una grande mescolanza di ricchezze siamo tutti vi invito soltanto a riflettere su una cosa ognuno di voi pensi a com'è l'albero genealogico della sua famiglia a parte le eccezioni che sicuramente ci sono anche qua ma normalmente gli alberi genealogici delle nostre famiglie nascono così i nostri bisnonni normalmente erano tutti dello stesso paese si erano incontrati nello stesso paese si erano sposati avevano messo su famiglia e vivevano nel paese dove erano nati i nonni si erano magari incrociati tra paesi vicini della stessa regione i genitori si sono incontrati tra regioni diverse dello stesso paese o magari in altri paesi voi probabilmente avrete relazioni con persone che sono di un altro paese o che sono comunque lontane fisicamente dal posto dove voi siete nato perché la vita oggi è fatta di questa mobilità e se è così l'identità cambia per definizione e una politica che vi vuole obbligare ad avere un'identità fissa con un'unica parola un'unica definizione è una politica che non dà conto della cosa più bella del tempo che viviamo la ricchezza della diversità questa ricchezza della diversità che vi consente di fare quello che io da ragazzino non ho fatto io ho fatto scuola elementare in un posto in cui nella mia classe c'erano soltanto ragazzini o ragazzine bianchi punto non ho mai visto la differenza nella mia esperienza da bambino i miei figli oggi nelle loro esperienze scolastiche nelle scuole pubbliche qui a Roma hanno visto che cosa vuol dire crescere insieme un ragazzo un ragazzino di colore un ragazzino asiatico orientale un ragazzino latino americano e per loro quel colore non fa nessuna differenza è una cosa straordinaria quella che noi stiamo vivendo oggi dobbiamo viverla come ricchezza e secondo me è la cosa più bella delle vostre generazioni grazie bene ci vediamo alla fine ci vediamo alla fine di questo mese arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.